E allora? Allora, eccoci qua, che bello essere con voi anche di domenica. Perché siamo qua di domenica? Io ve lo voglio spiegare, perché abbiamo la sensazione che è il momento di esserci, che è il momento di stare insieme, che è il momento di stare in famiglia, di riflettere insieme su un bel po' di cose che ci stanno capitando, di prenderci il nostro tempo, di stare insieme agli amici. Io ce li ho i miei amici con me, cioè, Baurro lo sapete, c'è un sacco di tempo che viene con me nelle avventure parallele, grazie Baurro di essere con me, e c'è Gerardo, c'è Gerardo Greco, che ci aiuterà a capire delle cose. Mi starà vicino, perché per me la domenica è un giorno nuovo, quindi proprio come voi devo prendere le misure su questa domenica della sette. Poi sentite come siamo partiti, questa bellissima canzone del mitico Bruce Springsteen, No Surrender, perché? Perché questa canzone dice Non arrendiamoci. E noi sceglieremo ogni domenica una canzone, perché la canzone sarà un pezzo del nostro racconto, sarà il nostro messaggio, e oggi il messaggio è questo. Non arrendiamoci, non arrendetevi, resistiamo. E oggi vi racconteremo anche quello. Storie di resistenza dall'Italia, da un paese speciale. Vi porterò a Caivano, c'è una donna tosta, che tiene aperta la sua scuola anche nei momenti peggiori, e che ci dice, guardate che qua si chiude una scuola, è una catastrosa, perché la scuola è una trincea. E poi diciamo, tutti noi dobbiamo resistere al virus, dobbiamo capire qualcosa, siamo confusi, abbiamo due grandi medici, abbiamo Massimo Galli, abbiamo Walter Ricciardi, e poi abbiamo anche un amico di famiglia, di questa famiglia, che è Enrico Mentana, che scenderà qui dal suo TG, per aiutarci un po' a capire quello che stiamo vivendo, quello che sta accadendo. Avremmo due opinionisti molto speciali, molto speciali, ma ve li svelo fra un pochino. E poi, ragazzi, la verità è che un giorno è molto importante oggi, stanno capitando cose attorno a noi, e noi ci prendiamo il nostro tempo, riflettiamo, ma siamo quelli che vi raccontano le notizie. Oggi sono i stati generali del Movimento 5 Stelle, oggi due regioni importanti sono diventate regioni rosse, sono la Campania e la Toscana, persino il Mitegiani si è un po' incavolato, e poi c'è lui, c'è De Luca, che spara a zero contro tutto e tutti, ma soprattutto spara a zero contro un signore, un'esponenza del governo, che oggi è l'uomo chiave per noi, e credo anche per voi. E Luigi Di Maio, io mi avvicino al mio tavolo, perché voglio partire da questo tavolo per le notizie di oggi, che è il tavolo delle nostre mattine, ma anche il tavolo da cui voglio fare le interviste in questa nostra domenica, agli protagonisti del giorno. Allora, salve Luigi Di Maio, come sta? Buongiorno, buongiorno. Si combatte? Si è tolto la cravatta di domenica, bontà sua. Sì, almeno questo me lo concedo, sono al ministero, però... Ecco, infatti, sta la parnesina, che fa? Mangia al ministero la domenica, lei? Sì, oggi è giornata di panino, perché non è aperto niente, né mensa né bar interno, quindi abbiamo, diciamo, sopperito così, ma non è un problema, assolutamente. Allora, Di Maio, dicevo che è una giornata importante per lei, fra un po' andrà a parlare agli stati generali del Movimento 5 Stelle, parlerà anche Conte, ci arriviamo fra un momento, perché in realtà io con lei vorrei fare un ragionamento diverso, nel senso che oggi, come ho detto, è un giorno in cui vorrei cominciare a capire delle cose, quelle cose che raccontiamo in maniera frettolosa durante la settimana, oggi proviamo a capirle meglio. Partiamo dalla sua campagna, dalla nostra campagna, partiamo dal fatto che oggi è zona rossa, è passata da zona gialla direttamente a zona rossa, saltando l'arancione. Oggi c'è un Di Maio, un Di Maio, un De Luca, perdono, ho avuto un lapsus, un De Luca infuriato sul libero, che dice, ma com'è possibile che in tre giorni si passa da gialla a rosso? Ma che faceva? Il governo dormiva, non vedeva. Allora io questa cosa gliela chiedo davvero, la chiedo io a lei, perché questo passaggio repentino dal giallo a rosso, perché tutti questi giorni per capire cosa stava accadendo? È strana, io sono settimane che racconto gli ospedali in Campania, in che stato sono, cos'è successo esattamente in Campania? Guardi, le faccio prima di tutto gli auguri per questo suo nuovo programma, in bocca al lupo a lei e a tutta la sua squadra, vorrei dire sulla questione della Campania che come prima cosa che non è una questione tra me e De Luca, la Campania ha avuto nell'ultima settimana soprattutto, è stata protagonista di scene sconvolgenti negli ospedali, in particolare nei pronto soccorso, ma io avevo anche tanti messaggi che mi arrivavano da medici e infermieri sulle ambulanze che dicevano che le persone stavano morendo in ambulanza perché non si sapeva dove portarli. Noi applichiamo un metodo a livello nazionale, le regioni possono essere gialle, arancione o rosse in base ai parametri che ci mandano le regioni. I primi riscontri in base ai dati che ci hanno mandato le regioni facevano nella Campania una regione zona gialla. Ora io non lo so perché non conosco la provenienza dei dati e che tipo di dati erano, ma so che il Ministro Speranza non ha potuto fare altrimenti e il Comitato Tecnico Scientifico, gli scienziati non hanno potuto fare altrimenti. Dopodiché meritoriamente avete raccontato quello che stava succedendo negli ospedali campani, ci siamo allarmati, abbiamo chiesto anche agli enti territoriali di dichiarare le zone rosse almeno nelle aree dove quelle immagini stavano arrivando e mi ha sorpreso questa contrapposizione perché stiamo parlando della salute dei cittadini che si diceva i dati sono a posto, la regione Campania può essere zona gialla. Allora a quel punto come governo siamo intervenuti e abbiamo dichiarato per capirci lei e io ma lei non si fida di quei dati perché è strano che dei dati ci dicono che è zona gialla e poi dopo si mandano addirittura gli ispettori del ministero si mandano i NAS e da quelle ispezioni viene fuori che passiamo direttamente al rosto, c'è qualcosa che non quadra. Ma guardi, questo ovviamente lo capiremo col tempo. Io sinceramente le posso dire che in questo momento l'unica cosa che mi interessa è tutelare la salute dei cittadini di tutte le regioni e quindi anche dei cittadini campani in particolare delle province più colpite che poi come lei ben sa sono la maggioranza della popolazione di quella regione cioè dire che in alcune province non c'erano problemi quando le tre più colpite sono le più numerose con la densità meditativa più alta. quando uno vede quelle scene di Napoli me la mettete quella foto tremenda pazzesca del Cardarelli perché è stata quella foto che le ha fatto cambiare atteggiamento. Le dico Di Maio lei è stato molto defilato su questo tema io sinceramente per alcuni giorni l'ho proprio sentita la sua voce lei ha visto questo filmato e ha fatto un post durissimo su Facebook dicendo il governo adesso si muova perché quella foto l'ha convinta a dover entrare in gioco? Ma guardi se lei vede in tutta la pandemia anche nella prima fase da marzo io non ho mai attaccato un governatore o un sindaco non l'avevo mai fatto perché ho sempre spinto alla collaborazione istituzionale tra governo regioni e comuni solo che quella scena lei lo sa meglio di me non è la prima le abbiamo viste anche in tempi di pace se lo ricorda il paziente con le formiche sul letto in uno degli ospedali campani lì non c'era il covid allora il tema è già conosciamo le debolezze strutturali della sanità per dieci anni vent'anni di tagli negare l'evidenza e dire che va tutto bene questo è sbagliato poi lo ripeto non è una questione tra me e il governatore De Luca tra l'altro la sua linea di rigore la ricordiamo tutti io l'ho sempre sostenuta e apprezzata è solo che in questo momento secondo me si stava arrivando di un'attenzione in cui il governo nazionale doveva intervenire ora ci arriviamo alla linea del rigore di De Luca perché c'è qualcosa che a un certo punto lì non ha funzionato però ci arriviamo fra un secondo perché lei mi ha detto non è una cosa personale fra me e lui però io abbia pazienza io le devo leggere però le frasi di De Luca perché a me mi pare parecchio personale la storia perché De Luca dice in una diretta Facebook alcune cose tipo tale Luigi Di Maio avrebbe dovuto impegnarsi per far arrivare il personale che manca parla parla mi fermo solo perché questo soggetto che sarebbe sempre lei mi procura reazioni di istinto che vorrei controllare nelle prossime ore non si capisce prima o poi pare che le voglia mettere le mani addosso io capisco quello se bisogna stare al governo con questi personaggi sempre lei per me sarebbe meglio mandare a casa questo governo e poi dice anche una cosa sul fatto che vorrebbe fare un dibattito pubblico in televisione con lei in diretta televisiva perché non deve fare lei sempre il coniglio come ha fatto nei 3-4 anni precedenti allora io le dico questo con tutta la simpatia ma più personale di così che lei doveva dire guardi avrà dato altro materiale a crozza per il prossimo venerdì mettiamola così per il resto per quanto mi riguarda noi come governo siamo pronti ad inviare militari e ad inviare protezione civile per sostenere il pronto soccorso spero che la regione li accetti perché è stato fatto un grande lavoro dal ministro Speranza ma anche dal ministro Guerini lei ha visto per esempio i drive-thru a Milano uno dei più grandi che ci sono in Europa è stato fatto un grande lavoro dai singoli ministri per fornire il supporto ai pronto soccorso e agli ospedali li si accetti anche in campagna perché è la nostra gente che è a rischio e c'è a rischio la propria la loro salute è di questo che stiamo parlando scusi per le proposte dei militari però De Luca ha detto che lei è uno sciacallo che non lo vuole l'esercito lì voi ve ne fregherete guardi che le tende militari le tende militari sono per fare diciamo un primo filtro rispetto ai pronto soccorso fuori ai pronto soccorso di tante regioni e guardi è una questione tra l'altro che non si tratta di militarizzare la regione si tratta di usare le nostre eccellenze militari medici e infermieri per supportare delle strutture che oggettivamente sono andate sotto stress perché la zona rossa al massimo serve a tamponare i contagi da adesso ai prossimi 14 giorni ma noi siamo ancora nell'onda delle precedenti settimane in cui quella regione era zona gialla quindi lavoriamo collaboriamo e io tendo sempre un messaggio io voglio mandare un messaggio di pace a De Luca non di guerra dicendo lavoriamo insieme poi non siamo mai stati simpatici non l'abbiamo mai pensato allo stesso modo tant'è vero che abbiamo assistito a tante di queste considerazioni che lei ha citato ma lasciamo perdere lavoriamo per la regione lavoriamo per il paese e per la salute degli italiani senta lei ha detto una cosa adesso no non siamo mai andati d'accordo mi è venuta in mente noi ci conosciamo da un bel po' di anni ormai lei odio da prima che lei diventasse vice premier ministro del lavoro e tutto il resto e poi ministro degli esteri e beh insomma con De Luca vi siete sempre detestati ma non solo proprio vi avete considerato sempre voi dei cinque esteri De Luca come il simbolo di un modo di fare politica dopodiché sono cambiate molte cose siete al governo con il PD ma sai cos'è che va colpito che comunque De Luca è un governatore del PD nel governo non l'ha difesa nessuno cioè io mi sono detta ma è strano che un governatore possa dire cose così gravi sul ministro degli esteri in carica del nostro governo e dal governo nessuno dice oh ma che ma siamo pazzi ma insomma ci è rimasto male che non ha avuto una difesa da parte di Zingaretti cioè che nessuno ha parlato su quello che è accaduto no ci mancherebbe altro perché io non mi auguro mai che il governo piombi in uno scontro istituzionale andiamo avanti lavoriamo per gli italiani tante persone in questo momento la stanno seguendo da casa e sono in regioni rosse in praticamente lockdown non possono uscire di casa e vogliono sapere come passeranno i prossimi mesi la spettacolarizzazione della politica lasciamola ai tempi di pace lì ce la possiamo permettere ma qui siamo in un'altra ondata di pandemia europea a ricordo non solo italiana e l'Italia la sta affrontando con tutte le proprie forze il governo la sta affrontando con tutte le proprie forze scusi Di Maio ma il rischio lockdown nazionale esiste ancora? è una cosa è sul tavolo questa possibilità? io so e Conte continua a dire che non lo vuole fare ma insomma è un rischio no? guardi io ho sentito ieri ovviamente la conferenza stampa del CTS l'Istituto Superiore di Sanità e hanno detto che l'RT l'indice di contagio sta rallentando e la curva sta rallentando ora ovviamente questa considerazione gli stessi scienziati hanno detto che va presa con prudenza ma se la curva sta rallentando non se ne vede ragione di un lockdown nazionale perché gestiamo per regioni la situazione ovviamente le ricordo e ricordo a me stesso che in zona gialla ci saranno in questo momento 4 massimo 5 regioni su 20 quindi noi abbiamo tanti cittadini tante imprese tanti commercianti che in questo momento hanno delle difficoltà perché ci sono regioni in zona rosso in zona arancione che hanno strette limitazioni quindi comunque le misure che abbiamo applicato sono delle misure rigide che riguardano le regioni più colpite e sono tante purtroppo lei sa meglio di me che la grande domanda che circola fra insomma a casa di ognuno di noi in questo periodo è ma perché siamo arrivati così impreparati alla seconda ondata perché sapevamo tutti che c'era e abbiamo fatto tanti orrori anche quell'estate no quell'estate così rilassata spensierata a questo punto mi verrebbe da dire sconsiderata le discoteche aperte perché le discoteche erano aperte perché si potevano aprire non è che c'erano dei pazzi o dei criminali cioè cos'è che non abbiamo previsto cos'è che è nato storto secondo lei io penso che questa domanda sia legittima ma non va applicata solo all'Italia ma sostanzialmente a tutta Europa e a buona parte dell'Occidente più altri paesi che non sono considerati nell'Occidente perché noi in questo momento come Italia rispetto a marzo non siamo i primi nella pandemia e per una volta essere in coda è una cosa buona perché vuol dire che la nostra curva non è tra le curve epidemiologiche più preoccupanti quindi rispetto a questo l'Italia evidentemente ha applicato delle misure che stanno funzionando meglio poi è evidente lo voglio dire con molta franchezza noi siamo usciti dalla prima ondata sapendo che ci poteva essere un ritorno però ci siamo detti pure facciamo sacrifici in quegli 80 giorni a marzo di lockdown per poter avere un'estate seminormale ci sono stati dei comportamenti disinvolti e io credo che quelli abbiano sicuramente contribuito alla curva del contagio ma praticamente in tutto il mondo io sono stato in alcuni paesi nelle ultime settimane che erano al loro secondo lockdown nazionale ed erano preoccupati di doverli chiudere ma lei ha ragione però diciamo la verità mai come in questo caso lo mal comune non è mezzo caudio perché io comunque penso al fatto che credevo che tante cose non le avrei più riviste quegli ospedali in affanno quei medici disperati quegli infermieri che chiedono aiuto io Mirta che gli ho raccontati tutti i giorni durante il lockdown pensavo di non vederli più francamente beh questo sicuramente è figlio anche di un'altra cosa che prima o poi dovremmo affrontare che è anche la divisione dei poteri dello Stato perché se si parla del fatto che la sanità è regionale e poi quando le strutture vanno in affanno quindi i soldi li spendono le regioni però poi se le strutture vanno in affanno è colpa del governo centrale beh questo è anche un po' sbagliato cioè bisogna riformare il titolo quinto riportare qualcosa al centro secondo me quando usciremo da questa pandemia non adesso ma quando usciremo da questa pandemia dobbiamo rivedere alcuni equilibri di potere tra le regioni di poteri istituzionali tra le regioni e il governo centrale però le voglio dire anche la luce si vede in fondo al tunnel del vaccino perché tra dicembre e gennaio sappiamo che arriveranno le prime dosi entro la fine dell'anno le prime dosi come ha detto il commissario Arcuri vaccineremo prima le fasce più deboli e ovviamente il personale sanitario e da lì il mondo si avvierà ad una nuova normalità non tornerà alla fase pre-covid ma ad una nuova normalità le devo dire una cosa alla cittadino dato che tra l'altro credo che lei con quel suo post partendo da Napoli però abbia voluto anche dare un po' la sveglia al governo quella è stata un po' la mia sensazione che lei a un certo punto ha detto ragazzi muoviamoci ci stiamo un po' rilassando questa è stata la mia sensazione personale poi mi dirà se è vera ha ragione no io semplicemente ho espresso secondo me una frustrazione generale rispetto al fatto che si stesse aspettando venerdì l'altro ieri per avere i dati ufficiali e poi dichiarare la zona rossa ma intanto c'erano giorni e giorni prima in cui arrivavano quelle scene dai pronto soccorso e poi lei lo sa io sono campano quella è la mia gente mi chiamavano i medici mi chiamavano gli infermieri mi dicevano qui stiamo scoppiando quindi era importante dare un segnale a quelle persone che ci stavamo occupando di loro e stavamo lavorando a dichiarare la zona rossa scusi Di Maio diciamoci una cosa con franchezza ma è vero che le ha fatte andare lei l'ispettore in campagna che ha chiesto a Speranza ti prego mandali perché io continuo a avere segnali pessimi dalla regione peraltro quelli che ho raccontato io tutte le mattine perché erano giorni che raccontavo gli ospedali io ho raccontato gli operatori del 118 Di Maio che mi dicevano non c'erano le bombole dell'ossigeno ma com'è possibile no guardi il ministro Speranza è persona accorta e autonoma e ovviamente queste disposizioni le dà lui senza ricevere alcun tipo di pressioni anche perché è una persona che stimola il modo in cui sta gestendo questa pandemia con un ministero che non era così centrale prima della pandemia proprio perché la sanità era regionale adesso quel ministero ha sulle spalle molte le responsabilità nell'affrontare questo momento storico quindi no la risposta alla sua domanda è no le dico anche che ovviamente lo ripeto non possiamo dire che le risorse le spendono le regioni ma poi lo stato e la sanità è colpa del governo centrale questo secondo me è ingiusto condividiamo azioni e quindi anche le responsabilità Comunque com'è diventato prudente Di Maio qua hanno ragione quando dicono che lei sta diventando l'elettore in tessenza del democristiano guardi posso controbattere su una cosa io ovviamente se il paese non fosse in questa situazione direi diversamente le cose però so che i cittadini mai come in questo momento badano al concreto non vogliono ascoltare le chiacchiere politiche e io sento la responsabilità di istituzione e di membro del governo nazionale nel cercare di agevolare i rapporti istituzionali e non di alimentare tensioni poi quando sarà superato tutto questo mi dirà tutto quello che pensa di De Luca alla fine di tutto ciò credo che non ci sia nessun tipo di problema anche perché ha visto che diciamo il livello del dibattito senta un'altra cosa a proposito appunto dei dati non chiari questa è un'altra cosa che ho trovato molto preoccupante l'opacità dei dati ma questo me lo dicono anche i medici l'altro giorno il professor Galli che peraltro arriverà proprio poco mi ha detto non riusciamo ad avere i dati sono tutti cioè è tutto il CTS le notizie che arrivano poco i dati secretati le regioni che non si capisce bene questi dati come le mandano le indicazioni complicate quei 21 parametri complicatissimi non c'è un elemento di mancanza di trasparenza secondo lei proprio perché ci riguarda tutti noi ogni mattina ci svegliamo e vogliamo capire che ci succede io vivo in Lazio voglio capire che prospettive ho però le posso dire che sicuramente secondo me non c'è un problema di trasparenza ma c'è un problema sicuramente di complessità della lettura dei dati perché sono 22 criteri da applicare ai dati che riceviamo ma voglio dire ai cittadini che ci ascoltano l'abbiamo fatta complicata diciamo difficile l'abbiamo fatta difficile perché perché noi stiamo combattendo contro il lockdown nazionale cioè stiamo cercando di evitare che si arrivi al lockdown nazionale e per questo analizziamo con 22 tipi di criteri la situazione di una regione faccio un esempio 21 sapevo io solo il numero di contagiati 21 no chiedo scusa 21 ora non me ne ero persa una mi preoccupavo non ne è apparso un altro non ne è apparso un altro però voglio dirle voglio dirle in una regione non conta solo il numero di contagiati ma lo stato delle strutture ospedaliere allora il dato comparato il dato incrociato ci permette di capire in che stato è quella regione senta le devo chiedere una cosa sul vaccino perché lei è stato uno dei primi a essere molto ottimista sul vaccino mi ricordo mi pare fosse il 10 12 ottobre lei disse il vaccino sta arrivando ce l'avremo a gennaio oggi leggo su tutti i giornali che addirittura c'è un piano per distribuire vaccini in mille ospedali italiani ma siamo sicuri sicuri perché a me i medici mi continuano a dire che la sperimentazione corone è conclusa che poi che le industrie riescono a produrli davvero ci vuole del tempo non rischiamo di dare false speranze perché questo ovviamente in questo momento sarebbe molto preoccupante guardi noi le dico da ministro degli esteri noi abbiamo come governo sottoscritto gli accordi internazionali più importanti sui vaccini cioè i primi vaccini pronti arriveranno ovviamente in Italia sono i due grandi progetti quello della Oxford University e l'altro di Pfizer e noi ci siamo in questi accordi e questo non era scontato siamo tra le potenze al mondo che quindi è nei progetti di vaccino con i programmi più avanzati detto questo noi abbiamo sottoscritto dei contratti e nei contratti c'è questa tempistica e per ora non abbiamo notizie che questa tempistica sia stravolta dalle fasi di sperimentazione quindi questi sono i contratti che abbiamo sottoscritto e i tempi dei contratti che abbiamo sottoscritto Ministro a breve Gerardo Greco ci racconterà un po' di cose che gli italiani pensano sui vaccini e c'è una cosa che mi ha molto colpito sulla diffidenza poi ci arriviamo sulla diffidenza che ancora c'è nel nostro paese sui vaccini persino sul vaccino anti-covid che io mi precipiterei a farlo se devo essere sincera ma su questa cosa no mea culpa forse lo vorreste fare dal Movimento 5 Stelle perché l'avete per carità me le mi diranno non sono stato io per carità è vero ma avete risciato un po' il pelo Enovax io me le ricordo le cose della Taverna la Lezzi che un giorno qua in studio da me a dirmi che la Lorenzina era una matta che faceva i vaccini obbligatori cioè secondo me c'è stato nel Movimento asserpeggiato questo sentimento anti-vaccini col senno di poi guardi col senno di poi le posso solo dire che da Ministro che incontra i propri omologhi praticamente o virtualmente o di persona ogni giorno con tutti i ministri degli esteri ci siamo detti che l'unico modo per far ripartire il mondo in questa pandemia è il vaccino quindi rispetto al passato noi stiamo parlando di uno strumento in questo momento che serve a superare la pandemia mondiale e infatti i grandi accordi strategici sono proprio sui vaccini in questo momento i vaccini rischiano di modificare anche gli equilibri geopolitici quindi cari no-vax bye-bye da parte di Luigi Di Maio ma io non sono mai stato no-vax tra l'altro ho sempre detto che avrei vaccinato mio figlio ovviamente non ho ancora figli ma lo avrei fatto io ho fatto il vaccino in passato la mia famiglia li ha sempre fatti quindi ci mancherebbe la cosa che voglio dire però è che questo mi è sembrato che c'è la notizia però Di Maio vuole fare a breve dei figli cioè incantire un figlio al momento no però io me li auguro sempre mi auguro di poterli avere ovviamente si avvicina all'età in cui se li voglio è il momento di farli bravo c'ha ragione io glielo consiglio caldamente di farlo anche da giovane io l'ho fatti da giovane e ne sono molto felice che dici Mauro? dicevo che ha detto che vaccina il figlio di Di Battista ah vuol vaccinare il figlio di Di Battista adesso ci arriviamo a Di Battista non fare le battutine perché ma che c'entra il figlio di Alessandro lasciamo stare i figli ma ci puoi mettere una buona parola no no era una battuta siete così amici era una battuta no voglio arrivarci alle storie generali fra un momento però devo ancora chiedere una cosa perché lei fa il ministro degli esteri l'ha ricordato prima avete i ministri degli esteri tutti i giorni l'America Trump va a casa tra l'altro mi è appena arrivata un'agenzia in cui lui finalmente dichiara che Biden ha vinto però dice ha vinto perché il voto era truccato a questo proposito ci siamo ricordati con i miei autori prima chiacchierando con Mimmo Torrisi che noi ci ricordiamo quando fu letto Trump ci fu questo post di Peppe Grillo ma ci abbiamo apprezzato la clip volendo vediamolo un momento perché disse una cosa tra l'altro molto interessante a prescindere dalle differenze con Trump su quello che voleva dire Trump in quel momento nel mondo guardiamolo un istante pazzesco questa è la deflagrazione di un'epoca è l'apocalisse l'apocalisse dell'informazione della televisione dei grandi giornali degli intellettuali dei giornalisti e questo ha fatto un vaffanculo generale questo qui ha fatto un videi pazzesco allora questo ha fatto il vaffanculo generale il videi pazzesco ecco quattro anni dopo Trump va a casa Trump muore e in qualche modo tutti dicono è il populismo che sta scomparendo che cosa ne pensa? perché è interessante questo dal suo punto di vista lei è uno che nasce populista nasce col baffatei e finisce a fare oggi l'esponente di governo in un momento difficilissimo mi ha appena detto io preferisco essere cauto adesso perché per me adesso governare il paese è la cosa importante cioè i populisti quando sono al governo dovevano per forza cambiare pelle? no non devono cambiare pelle io penso che quando Trump è stato eletto tutti gli analisti lo hanno analizzato e lo hanno visto come un voto anti-establishment lo hanno detto tutti non solo Beppe Grillo quindi era un'analisi condivisa io ho sempre detto in questi quattro anni che l'Italia ha lavorato bene con l'amministrazione Trump è stata difesa nelle guerre commerciali dei Dazi e il Made in Italy è sempre stato tutelato però noi lavoriamo con tutte le amministrazioni degli Stati Uniti che il popolo americano eleggerà perché gli Stati Uniti al di là delle amministrazioni sono nostri alleati e tra l'altro ricordo che sono il primo mercato di destinazione fuori dall'Unione Europea del nostro Made in Italy dove quest'anno grazie a delle nuove politiche che abbiamo fatto alla Farnesina abbiamo segnato più 11% di export di Made in Italy negli Stati Uniti quindi per le nostre imprese è un mercato cruciale quindi lei dice a me non mi interessa che è il Presidente io voglio parlare con gli Stati Uniti che è l'interesse del Paese mi dica una cosa ma lei si definirebbe ancora un populista oggi? Beh oggi questo termine viene utilizzato in maniera molto dispregiativa però a mio parere chi sta con il popolo e fa l'interesse del popolo fa una cosa buona io non ho capito ancora qual è l'opposto di populista perché a mio parere al di là del termine è importante tenere ben presente che noi siamo qui e siamo pagati io la metà perché mi dimezzo lo stipendio ma siamo pagati dagli italiani per fare le cose per loro senta glielo chiedevo anche perché oggi è un giorno importante lei si alzerà da quella sede dove sta adesso parlando con me e andrà gli Stati Generali del Movimento 5 Stelle so che giustamente vuole anticiparmi poco di quello che dirà perché è una cosa di rispetto nei confronti ovviamente delle vostre regole però io proprio questo le devo chiedere a che servono questi Stati Generali cosa state provando a fare è un congresso mi state trasformando in un partito avete bisogno di trasformare in un partito per essere una forza di governo che sia anche stabilizzante per questo governo è proprio la mission che voglio capire da lei stamattina anzi oggi è l'ora di pranzo si è un appuntamento importante per noi come forza politica ovviamente capita nel bel mezzo di questa seconda ondata della pandemia infatti è virtuale lo voglio dire a tanti che purtroppo hanno dovuto sacrificare le loro attività non sto andando fisicamente ci andrò virtualmente a questi Stati Generali e lo so che può essere un dibattito noioso per gli italiani però è importante ristrutturare questo movimento cioè il modo di governare le azioni politiche il modo di essere sul territorio il modo di finanziare le attività il modo di inquadrare il movimento a livello internazionale sono delle cose che dopo dieci anni richiedono necessariamente una messa a punto dieci anni fa non avevamo neanche un parlamentare oggi siamo al governo della settima potenza mondiale con la maggioranza in consiglio dei ministri scusate mi rimettete quella foto dove si abbraccia no? aspettate un attimo no perché questa qua gliela voglio far vedere bene Luigi Di Maio questa è una fotografia per me molto interessante Di Maio le dico la verità guardi un po' siete lei e Beppe Grillo che vi abbracciate Casaleggio Junior che vi guarda con uno sguardo d'amore e Di Battista pure che vi guarda con un bel sorriso amichevole io l'ho detto prima parlando con i miei autori penso che una delle cose interessanti che c'era nel movimento quando arrivò è che sembravate un gruppo di persone che si volevano bene che erano amici davvero con due padri che sono stati Grillo e Casaleggio che hanno detto ai giovani fate voi non vogliamo noi posti il contrario di un partito tradizionale oggi sta capitando tutto il contrario tutti contro tutti lei Di Battista che siete le due anime è il movimento che proprio plasticamente siete all'opposto quel signore lì Casaleggio che è il figlio del fondatore e che vi dice io neanche ci vengo agli stati generali perché per me già tutto starò deciso non mi fido insomma siete diventati un partito da questo punto di vista tutti contro tutti mi scusi è una domanda molto sincera ma è quello che ci chiediamo no ma è giusto io giusta la domanda poi voglio premettere che rispetto a quella fotografia io continuo a voler bene a tutti quelli che sono in quella fotografia perché i rapporti personali non devono assolutamente intrecciarsi con quelli politici detto questo per quanto riguarda quello politico io mi sono dimesso da capo politico dieci mesi fa per far partire questi stati generali poi è vero c'è stata la pandemia c'è stato di tutto in mezzo mi sono dimesso a fine gennaio del 20 siamo a metà novembre però l'ho fatto per avviare questo dibattito degli stati generali quello che avete visto pubblicamente in questi mesi è il dibattito degli stati generali che dovevano arrivare un mese e mezzo dopo sono arrivati dieci mesi dopo per colpa di nessuno ci mancherebbe adesso io spero che dopo oggi si possa ricondurre all'unità questo movimento perché l'unità del movimento è la forza del movimento le divisioni sono l'indebolimento della nostra forza politica ma lei si è sicura che non se lo vuole riprendere questo movimento io le ho tolte la cravatta la prima volta che le ho tolte io di me la cravatta ma forse è il momento che lei sa rimette la cravatta e si riprende il movimento perché mi pare che questi dieci mesi senza la tua lì non è che siano andate anche bene le cose diciamo la verità guardi io per questo movimento non mi sono mai risparmiato e non l'ho fatto neanche in questo periodo in cui non sono più capo politico ho fatto le campagne ho sostenuto i nostri ho fatto tutto quello che si doveva fare perché io ci credo tanto e prendersi o riprendersi il movimento questo non è il mio interesse io credo fermamente nel fatto che questa grande famiglia adesso da oggi con nuovi obiettivi e nuove organizzazioni potrà ripartire più forte di prima però aspettiamo anche le conclusioni di questi stati generali che sono andati molto bene e credo abbiano convinto anche i più scettici che hanno partecipato che il meccanismo funziona com'è che parla Conte uno dei vostri ancora Conte? Noi abbiamo indicato il presidente del consiglio Giuseppe Conte e questo è un motivo di grande orgoglio due volte nel primo governo Conte e nel secondo governo Conte e ci siamo battuti per questo Giuseppe Conte ovviamente è un presidente che è rappresentativo di tutto il governo quindi io non voglio assolutamente tirarlo per la giacca in qualche colore politico però credo che sia molto in sintonia con i valori e le idee del Movimento 5 Stelle Giuseppe sei dei nostri li sta dicendo anche perché onestamente lei me lo portò la prima volta lei in studio come suo ministro designato che doveva fare non mi ricordo più la pubblica amministrazione funzione pubblica funzione pubblica caro Di Maio la ringrazio davvero perché era una giornata abbastanza complicata e il fatto di aver inaugurato questa domenica con lei mi fa un gran piacere i miei due simpatici amici ogni tanto sorridevano su Giuseppe Conte non ho capito perché secondo noi quell'aria di Di Battista non era proprio amichevole nella foto di prima secondo Mauro e me ah già era arrabbiato all'epoca No era un po' gelosito Di Battista già rosicava dicono loro vabbè vediamo sono cose in famiglia grazie mille Luigi Di Maio non la trattengo oltre arrivederci 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 no io pensavo allora come sta fate le faccette ma in più di un'intervista di Paolo che faccette io le faccette io le disegno l'ho disegnata ora la faccetta di Di Maio mi viene pure bene anzi te l'hai citata una cosa mia ti ricordi non mi fa litigare con Di Maio dell'aria che tira ciao Di Maio non mi fa litigare con Di Maio quando hai detto che è diventato come Andreotti tu ti ricordi il cartone animato del brutto anatroccolo che poi diventa uno splendido Andreotti era Di Maio qui all'aria che tira citazione doverosa ma io non voglio entrare tra sicuro nelle polemiche personali fammi fa litigare con la gente come l'ultima volta no no ti dico non ci voglio entrare non ci voglio entrare no né con il D Battista né con il D De Luca io analizzo i dati no perché siamo in un periodo sei oggettivo pure tu sono oggettivo io guardo le curve va bene curve Movimento 5 Stelle dal 33% del 2018 al 16% di oggi e Di Maio ancora aspetta la seconda ondata vabbè ma l'hai fatto triste era allegro ma dai no però aspetta ma non ti fermi mai no perché lo voglio anche difendere il povero Di Maio bravo e anche il povero Conte no i due Conti forse non aveva torto Trump a chiamarlo Giuseppi perché sono due è plurale era multiplo esatto cioè il Giuseppe Giuseppe Cialoverde c'è Giuseppe vabbè comunque amico diciamo di Trump non era solo Grillo o i 5 Stelle ce n'è uno che è stato amico quasi fino in fondo ancora oggi eccolo qui onorevole Salvini e la sua mascherina pro Trump mascherina? quale mascherina? se la sta masticando va bene va Gerardo adesso arrivo però questo è un momento molto importante per me tu lo sai perché adesso vi devo presentare il nostro opinionista principe della domenica che è un signore che ben conoscete eccolo qua caro presidente Monti eccolo le faccio pure pat pat perché guardi allora abbiamo fatto un dibattito qua se dovevo prendere un mega ipad per collegarmi con lei poi mi sono detta che però questa televisioncina vintage quella di una volta della domenica a casa di una volta mi piaceva di più che ne pensa? beh che è un televisore dei miei tempi va benissimo ma lei è un ragazzino Monti che dice? certo posso andare fuori tema e completare quella foto di Battista di Maio da Leggio e Grillo lei lo sa che può fare quello che vuole lei è il libro questo è uno spazio autogestito quello di Monti prego se si sono tesi i rapporti rispetto a quella foto questo depone bene ai miei occhi per il Movimento 5 Stelle perché vuol dire che la struttura comico padronale dei ruoli di Grillo e Casaleggio sta diventando un movimento politico con tutte le sue tensioni ma senza influenze estrane e tutto sommato occulta cioè lei ha visto un Di Maio che sta diventando adulto diciamo che si è affrancato sia dal populismo che da Grillo che da Casaleggio perlomeno lui ma anche gli altri beh su Di Maio su Di Maio ma io sono commossa ma lei ha studiato per me ha preso anche degli appunti e io non mi muovo senza appunti non è detto che siano su di lei ma io ho degli appunti mi chiede mi chiede su Di Maio scusami mi dica una cosa prima di parlare le domande e di sentire le sue opinioni perché lei mi ha detto che ha fatto una serie di riflessioni per noi questa settimana io voglio sapere appunto lei cosa tira fuori da questa settimana complicata sia in Italia che all'estero dobbiamo anche arrivare al suo amico Biden perché so che vi conoscete però chi ha detto la signora Elsa che gli ho rovinato il pranzo con lei l'ho fatta mettere davanti dal televisore a quest'ora si è arrabbiata con me? questo fa parte della confidenzialità di una famiglia che dura da più di mezzo secolo ah sai sono fatti vostri ho capito ha ragione mi scusi mi scusi però però non è escluso e quando ha letto in varie cronache che lei mi accredita come ospite fisso ha alzato un sopracciglio un sopracciglio non avevo dubbi infatti ho sempre detto nelle interviste che ho fatto per parlare di questa domenica che io speravo che lei rimanesse con me ma che per il momento era una mia una mia speranza ancora non confermata dal diretto interessato ce la conferma oggi in diretta allora professor Monti mi dica un po' questa settimana per questa settimana successe tante cose importanti peraltro appunto ha vinto oggi adesso mi è appena arrivata un'agenzia in cui Trump dice Biden ha vinto però perché ha truccato il voto però insomma ha detto che ha vinto ancora non era successo cosa vuol dire questo non solo per l'America ma per l'intero pianeta cos'è la fine del populismo come dice qualcuno ma guardi anzitutto sono due personalità molto diverse questo lo sappiamo tutti come Trump è impulsivo destabilizzante e imprevedibile giocava a fare l'imprevedibile Biden è riflessivo stabile e sarà prevedibile ora questo è un cambiamento effettivamente epocale vorrei anche dire che qui finisce il predominio della non competenza della non cultura della non scienza eccetera quindi questo aspetto che in fondo era il meno sano dei populismi pur ruspanti e che portavano qualcosa di buono cioè il dileggio della competenza verrà meno questo è molto importante ma per per il il resto del mondo io credo che forse una parola sulla Cina se se ne interessa sì prima una domandina però un po' più privata perché lei lo conosce bene Biden cioè vi siete visti più volte io ho visto parecchie foto di lei e Biden insomma che personaggio è ce lo racconta un po' il Biden che ha conosciuto lei perché per esempio io dico sempre che lei è molto diverso da come si è presentato nella sua immagine pubblica cioè lei era molto considerato molto severo molto austero io la considero nuovo molto spiritoso con un grande humor autoironia com'è Biden? ma forse perché allora lei non mi frequentava ma non credo di essere cammino comunque anche Gerardo la pensa come me tra l'altro voglio sapere se quel maglione che ha siccome è in bianco e nero il televisore lui sfoggiò un bellissimo maglioncino mi sembra azzurro con Obama un G7 del 2012 e 12 esatto a Washington ed era elegantissimo all'epoca era il più elegante di tutti alla fine si faceva sfigurare Angela con le solite giacchette con il pastello però cara Mirta se posso prego mia moglie si risentirà un pochino per il fatto che mi è stata preziosa nella scelta del maglione e non immaginavamo che saremmo andati in bianco e nero sinceramente non lo sapevo nemmeno io però qua ci sono così la regia fa libere interpretazioni di che colore è il maglione di Monti lo sappiamo? dai su diciamolo dicevo a Dottor Monti con tutto rispetto lei è nato in bianco e nero insomma come è nato in bianco e nero sì questa cosa questa immagine austera un po' vintage io credo che fosse bianco e nero anche quando aveva tre anni va bene non lo so io invece Monti lo trovo molto colorato guardate Monti a Camp David la sciccheria di questa foto Monti a Camp David va bene non era un talk show qui era un G8 dove Trump lasciati gli altri commensali ha chiesto a Merkel a Hollande appena eletto no no ho detto Trump chiedo scusa Obama Obama ha voluto invitare nel suo appartamento a Camp David Merkel Hollande e me per discutere la crisi dell'euro e lì è stato di aiuto prezioso per me e anche per Hollande perché ha fatto una forte pressione sulla Merkel che poi ha dato ha dato frutti scusino torniamo alla questione fondamentale però Trump ha perso e uscirà di scena seppure con qualche fatica però il populismo è davvero morto invece il populismo si riaffaccerà in altre forme secondo lei questo dipenderà moltissimo da come i non populisti si comporteranno prima Di Maio diceva populista è chi fa l'interesse del popolo che male c'è parole sacrosante solo che lui dimentica di dire che il populista soprattutto nella versione che ha accomunato lui e Salvini nella prima stagione è colui che grida di fare l'interesse del popolo spesso contro l'interesse effettivo del popolo come poi si è visto e quindi dipenderà moltissimo come la politica dei non populisti saprà essere o tornare ad essere seria per esempio prendiamo l'Europa per l'Europa direi che Biden e von der Leyen Joe e Ursula beh Claudio Amendola direbbe amarsi un po' perché questa è la prospettiva è talmente congeniale l'uno all'altra va bene scusi Presidente volevo sottolineare questo momento meraviglioso in cui lei cita l'altro grande opinionista della mia domenica che è Claudio Amendola mi piace che avete già un'affinità elettiva fra voi due una cosa che mi dà una grande gioia scusa lei diceva separati dalla NASA il presidente americano chiamandolo Joe ma lo conosce bene non essere provinciale Gerardo lo conosce bene lo chiama Joe giustamente scusi Monti sono discussioni qua interne sono biblie sì separati dalla nascita diceva lei di di me e di Amendola in ordine di entrata separati di esattamente vent'anni quasi alla giornata comunque l'Europa non si deve illudere che l'America non continui a fare pressione cioè continuerà a fare pressione e in questo Trump e Obama avevano ragione cioè l'Europa deve pagare di più per la sua difesa aggiungerei anche una questione di prudenza perché non possiamo dipendere totalmente dagli Stati Uniti e sui liberi commerci non dobbiamo farci illusione anche se Biden lo volesse il congresso americano la società americana è diventata molto chiusa però per quello che è vedere con favore anziché con ostilità la costruzione europea come era il caso di Trump per vedere con favore la lotta contro il cambiamento climatico tutte queste cose le posso chiedere una cosa Monti le volevo chiedere a proposito dell'Italia perché l'ho chiesto a inizio come impatta tutto questo sull'Italia ecco il nostro governo lei lo vede più stabile meno stabile lei qualche giorno fa proprio da me al mattino la reggaettira propose di fare un'unità nazionale vera propose addirittura il modo in cui farla le commissioni ma la vede all'orizzonte l'unità nazionale in questo momento perché io voglio tutti che litigano con tutti francamente no io vedo all'orizzonte e sempre più vicino il disastro che capiterà se non si arriverà ad una ragionevole unità nazionale perché purtroppo questa è una situazione paragonabile e per certi versi ancora più grave alle tre situazioni italiane del dopoguerra in cui l'Italia ne è uscita solo con un'unità nazionale subito dopo la guerra contro il terrorismo e contro la speculazione finanziaria del 2011 in tutte e tre i casi prima democristiani e comunisti nelle prime due occasioni poi berlusconiani e bersagnani nella terza occasione sono riusciti a superare le loro differenze nell'ultimo caso l'ho vissuta perché hanno chiesto a me di aiutare a superarli erano i giorni di di suburra senta professore sono un po' in ritardo dico la verità perché non sono ancora abituata ai tempi della domenica e quindi mi sono un po' dilungata in tutto questo vedo che è già arrivato un attimo che devo accogliere il professor Ricciardi rimanga ancora un momento con me professore prego le darei la mano l'accoglierei meglio ma come lei sa non posso perché ho no la mascherina quindi la faccio accomodare buongiorno ben trovato che bello anche il professor Ricciardi in versione casual con un maglioncino come Monti lui però blu blu scuro quello lo vedo lo sta salutando il presidente il presidente Monti sta salutando ma c'è anche Galli mi mettete anche il professor Galli che ti saluto anche lui ce l'abbiamo? allora Monti ecco seppure Massimo Galli collegato a Galli invece non è in versione domenicale giacca e cravatta va bene allora ci spiega perché devo andare in pubblicità di corsa no devo andare in pubblicità di corsa un momento solo scusate mi siamo un po' in ritardo stiamo prendendo le misure pubblicità torniamo subito allora eccoci qua siamo sempre noi non sorrender non ci arrendiamo è arrivato a trovarci il professor Ricciardi lo ringrazio molto di essere con noi sapete che è un grande medico ma è il consulente principe del ministro Speranza in questo momento complicato abbiamo molte cose da chiedergli Massimo Galli professore medico in trincea al suo sacco a Milano è stata per me una delle guide in questa difficile racconto della pandemia sono molto contenta di avere anche lui con noi però professor Monti scusi la tengo ancora un momento il professor Ricciardi mi ha raccontato parecchie cose interessanti a che avete lavorato insieme Ricciardi è stato il suo consigliere scientifico quando era a Palazzo Chigi ma questo è ripreso recentemente ah cioè torna a Palazzo Chigi lei? no per capire io sono pronta a tutto qui no no il professor Ricciardi fa parte del comitato scientifico che appoggia i lavori della commissione che l'organizzazione mondiale della sanità ha istituito per rivedere i sistemi economici e sociali alla luce della pandemia e mi è stato chiesto di presiedere quindi abbiamo nuove occasioni di collaborazione professor Ricciardi Monti ha una posizione importante adesso dentro l'organizzazione mondiale della sanità straordinariamente importante questa è una commissione fondamentale per il futuro dell'Europa è una commissione a cui partecipano quattro ex capi di stato tre ex primi ministri coordinata dal professore dal presidente e sarà cruciale per elaborare nuovi modelli perché se questa pandemia è arrivata è perché c'era qualcosa di sbagliato vorremmo evitare che per il futuro ripetessimo gli stessi errori quindi è molto strategica questa commissione va bene professor Monti lei rimane un po' con noi insomma la posso richiamare più tardi in campo? lei provi va bene professore io ci proverò mi riavvicinerò a questa bella macchinetta e proverò a richiamarla grazie davvero professor Monti grazie grazie mille a lei prima di fare le mie domande ne ho veramente un bel po' per voi due devo dire Galli e Ricciardi perché credo che sia un bel momento per mettere un pochino a fuoco tutti quei dubbi che continuano ad assillarci però prima vorrei chiedere a Gerardo Greco di fare la sua spiega ecco perché io vorrei che ogni tanto Gerardo ci aiutasse a mettere a fuoco qualcosa oggi le avevamo chiesto di ragionare sui vaccini perché sono credo la grande prospettiva per tutti noi Gerardo eccoti qua ti vedo in postazione spiega il vaccino è un'arma un'arma di distruzione di massa un'arma vera e propria non è una metafora la prima vaccinazione di massa per l'influenza stagionale fu fatta all'inizio degli anni 40 gli americani la facevano i loro soldati che poi venivano mandati in guerra in Europa i nazisti non erano vaccinati e prendevano l'influenza i marines invece non la prendevano perché erano vaccinati un'arma di distruzione di massa e forse anche per questo gli americani gli alleati vincono la seconda guerra mondiale è anche un piccolo tassello certamente quella del vaccino è una guerra c'è poco da fare è una guerra vera e propria è una guerra che si combatte peraltro in questo momento con 2000 test clinici in corso una guerra globale una guerra mondiale ci sono almeno 75 studi registrati e una decina di questi studi sono ormai arrivati alla fase conclusiva cioè alla fase 3 all'ultima sperimentazione c'è neanche uno italiano che si muove tra un asse abbastanza inconsueto dalla campagna dall'agropontino da Pomezia fino a Oxford nella campagna londinese ma quello che ci interessa di più oggi quello che è veramente più vicino oggi ad arrivare nelle nostre case è quello della Pfizer della Pfizer BioNTech ha una sigla si chiama BNT 162 B2 il vaccino più veloce del West è quasi pronto questa settimana la Pfizer ha detto è molto efficace nel 90% dei casi tantissimo per un vaccino allora a questo punto abbiamo svoltato nella realtà però per ora ha svoltato Wall Street soprattutto perché immediatamente il titolo Pfizer è andato alle stelle tanto che il suo presidente il presidente della Pfizer che si chiama forse non a caso Burla neanche per scherzo ha venduto tutte le sue azioni e si è incassato 5 milioni e mezzo in poche ore il problema insomma è inutile legarlo questa è una grande guerra ed è anche una guerra di soldi ci sono miliardi di persone da vaccinare e persino pensate una guerra fredda perché nel giorno in cui la Pfizer ha detto noi abbiamo il vaccino giusto i russi hanno detto ma anche noi il nostro vaccino che si chiama Sputnik come la prima sonda dell'Unione Sovietica è ancora più efficace del vaccino americano ombre di guerra fredda freddo è un termine importante perché questo vaccino della Pfizer che notizia di oggi dovrebbe arrivare in mille ospedali italiani alla fine di gennaio con 1.600.000 dosi intanto per cominciare deve comunque essere tenuto a temperatura sotto zero 75 gradi sotto zero poi Ricciardi ci dirà se è vero se è di più se è di meno ma insomma bisogna costruire i congelatori ma anche se noi avessimo costruito i congelatori anche se noi avessimo vinto questa battaglia questa guerra fossimo stati così veloci da creare il vaccino più veloce del West anche se riuscissimo a portarlo in casa di miliardi di persone che devono potenzialmente vaccinarsi però c'è un piccolo incredibile problema questo pomeriggio guardate che cosa è successo a Luca Gentile il nostro inviato giovedì in piazza a Roma per una manifestazione contro il lockdown guardate il vaccino per il covid lo farà si fila no sinceramente no ho anche un figlio non faccio neanche il vaccino per l'influenza ho tanti dubbi sul vaccino se dovesse essere però obbligatorio lo farebbe è che l'uomo di questo tempo la morte non l'accetta accettiamo un attimo la morte voi direte è una minoranza avete manipolato non è significativa invece no abbiamo chiesto a un serissimo istituto demoscopico l'SFG uno dei più importanti in Italia di fare un sondaggio poi ne parleremo più diffusamente ma questo è il dato più incredibile forse anche più inquietante abbiamo chiesto quando sarà pronto il vaccino lei si sottoporrà alla vaccinazione bene un italiano su tre dice di no addirittura un italiano su tre il 14% dice no nemmeno se sarà obbligatorio solo se sarà obbligatorio il 20% e allora la conclusione è che se questa del vaccino è una guerra i nemici forse siamo anche noi allora grazie Gerardo sì sono rimasta abbastanza esterefatto devo dire la verità abbastanza esterefatta perché invece io ingenuamente pensavo che avessimo tutti una gran voglia che questo vaccino arrivasse per uscire da questo tunnel da quest'incubo uno su tre non vuole vaccinare vaccinarsi con il vaccino anti-covid sempre che arrivi in tempo sempre che professor Ricciardi e professor Galli lo chiedo proprio a voi due perché a mio parere voi siete tra i medici che sono più esposti pubblicamente in questa in questa difficile pandemia si resta tra quelli che hanno sempre messo in guardia sui pericoli cioè che effetto vi fa è anche un po' un fallimento personale il fatto che in questo paese c'è tanta diffidenza nei confronti della scienza Ricciardi e Galli no a me non sorprende per niente perché l'antivaccinismo è nato con i vaccini se c'è una bellissima vignetta dell'epoca di Jenner che è stato il medico inglese che ha inventato la vaccinazione contro il vaiolo quando di vaiolo si moriva ed era una morte orribile in cui lui era accusato di essere un assassino cioè questa vignetta si trasformano tutte in mucche perché di fatto il vaccino originale era il virus del vaiolo vaccino per cui tutti diventavano mucche uscivano mucche dalla bocca quindi è nato così e persino Gandhi il Mahatma Gandhi contro il vaccino antripoliomilite si è espresso e poi ha detto che è stato il più grande errore della sua vita perché vedeva morire e ammalarsi persone di poliomilite intorno a lui l'antivaccinismo è naturale perché sostanzialmente i vaccini si danno alle persone sane mentre una persona malata è disposta a prendere di tutto per uscire dalla malattia una persona sana che sta bene dice ma perché io mi devo inoculare qualche cosa che invece queste sono le tecnologie più sicure del mondo e anche in questa circostanza saranno sicure perché verranno immesse in commercio solo dopo tutti i controlli necessari Professor Galli ecco perché uno dei dubbi che circola è proprio questo arriva troppo in fretta questo vaccino forse non è stato fatto tutto come doveva pur di arrivarci abbiamo saltato qualche fase è una cosa possibile questa? Francamente a questo punto credo di no non ho molto da aggiungere rispetto a quanto ha detto il Professor Ricciardi che saluto ma in buonissima sostanza siamo in una situazione in cui la storia di fatto si ripete citava prima il Professor Ricciardi la storia della vignetta della mucca che nasceva dal braccio e dal naso delle persone che si vaccinavano per la prima passata del vaccino qualche anno dopo l'obbligo della vaccinazione in Inghilterra sto sempre parlando anzi praticamente subito dopo l'introduzione dell'obbligo della vaccinazione in Inghilterra quando ci si è rese conto che ci voleva la doppia vaccinazione per avere garanzie fu creata la Lega degli Antivaccinatori e il risultato della Lega degli Antivaccinatori furono svariate centinaia di morti di vaiolo in alcune città inglesi Gloucester in particolare per cui di fatto ahimè potremmo cavarcela dicendo che la madre degli sprovveduti è sempre molto fertile ma credo che soprattutto ci sia questa eccola qua la rivietta la mia meravigliosa energia ecco la qua ci sia questa grande riluttanza ecco vedete dal naso dal braccio ma lì attenzione lì c'era di peggio perché lì c'era proprio l'accademia no? che si esprimeva però scusatemi professori egregi professori proprio voi due adesso la cosa è cambiata proprio voi due siete stati sempre molto prudenti ci sono insomma alcuni vi definiscono allarmisti io vi definisco prudenti avete sempre detto andiamoci piano su tante cose dalle riaperture fino proprio ai vaccini qualche giorno fa lei venne da me quando io dissi ma il vaccino sta arrivando e mi disse beh prima di dirlo mi disse quella è un problema di borsa per il momento in effetti lo era perché burla ha fatto parecchi soldini però ci siamo sicuri perché oggi leggo sui giornali che a gennaio ho piano per distribuire i vaccini 1.6 milioni di vaccini a mille ospedali italiani siamo certi di questo Ricciardi e Galli noi dobbiamo prepararci perché un vaccino quasi sicuramente arriverà ce ne sono tanti ce ne sono una decina indirittura d'arrivo e quindi indipendentemente da questi annunci noi ci dobbiamo comunque preparare per distribuire il vaccino e distribuire il vaccino che ha quelle due caratteristiche questo Pfizer deve essere conservato a meno 75 gradi quell'altro no quindi dobbiamo elaborare delle strategie e farci trovare preparati comunque qualsiasi sia la circostanza ed è giusto farlo adesso Senta Galli lei che ne pensa è così convinto che arriverà a gennaio come molti dicono invece è più scettico poi voglio anche arrivare un pochino però a lei alla sua giornata al sacco perché poi insomma voglio capire da lei la situazione complessiva che mi ma guardi no non mi sento di essere così come dire sempre quello che fa il bastian contrario e che dice no non arriverà a gennaio arriverà a febbraio io dico che comunque è chiaro che per farlo arrivare dobbiamo veramente ben organizzarci ed essere anche certi di come potremo muoverci perché la parola magica è proprio questa essere preparati dopodiché i fattori che possono condizionare l'arrivo a gennaio piuttosto che a febbraio piuttosto che a marzo possono essere anche ampiamente indipendenti dalla volontà degli italiani e del governo e delle regioni quel che però non sarebbe perdonabile è non essere preparati alla bisogna scusi ma che percentuale si deve vaccinare perché poi devi essere preparato che percentuale si deve vaccinare perché possiamo dire di essere immunizzati come collettività come paese Galli temo più del 70% anche se non abbiamo certezze in proposito questo non è un vaccino che abbiamo già usato e che ci dà risposte alle domande di questo tipo quando portato sul terreno da quello che suggeriscono i dati ma suggeriscono perché poi non so se il collega Ricciardi ha già avuto modo di vedere qualche dato più completo di quelli che sono giornalistici di fatto che ho visto io no? No no non ce li hanno ancora presentati non ce li hanno ancora presentati nel senso che i dati definitivi noi non li abbiamo ancora l'impressione che comunque forse il 70% non basterà sentite scusatemi ma per avere una vera effettiva immunità di greggio mi veniva una domanda mentre parlava il professor Galli il professor Ricciardi ma se noi non riusciamo manca a fare arrivare i vaccini anti-influenzali che la gente che li vorrebbe fare io sono piena di lettere gente che vorrebbe non li trova e insomma verso l'audio lo sistemiamo adesso l'audio adesso lo sistemiamo cioè la cosa dei vaccini anti-influenzali sarà ben strana ancora facciamo una gran fatica a trovarli in molte regioni italiane il problema è questo che mentre molti altri paesi fanno un'unica diciamo acquisto nazionale lo fanno in tempo perché il vaccino anti-influenzale va comprato al massimo entro maggio perché altrimenti poi non c'è più perché è molto complicato produrlo per cui tutti i paesi del mondo fanno gli ordinativi noi che cosa abbiamo fatto? abbiamo raccomandato come struttura centrale ai paesi alle aziende produttrici di riservare una quantità importante però poi questi acquisti li dovevano fare le regioni alcune regioni si sono emosso prima altre tardi altre tardissimo la conseguenza è che molti non ce l'hanno ancora allora devo dirvi una cosa professor Galli voglio farvi una domanda un po' personale vi siete resi conto che ormai gli italiani la mattina si svegliano aspettano di capire cosa dicono i virologi cioè siete diventati la nostra bussola il nostro punto di riferimento un tempo si leggeva l'oroscopo la mattina adesso si dice cosa dirà Galli cosa dirà Ricciardi cosa dirà invece Bassetti cosa dirà invece Zangrillo insomma non vi spaventa un po' questa sensazione di essere diventati quelli che devono dare continuamente la linea agli italiani Galli se posso dire più che spaventarmi mi secca un gran bel po' tanto è vero che sono molto tentato di tornare a fare un periodo di washout completo e lavorare in serenità perché se il discorso diventa quello di trovarsi in una specie di derby continuo tra squadre avversari e io francamente l'unica fede che ho è quella calcistica ben definita ma non appartengo a nessun'altra squadra contrapposta vorrei francamente sottolineare la dica si dichiari sulla fede calcistica credo di stare credo va bene ma lo sanno tutti che sono interista interista ma credo che molto francamente vada considerato il fatto che più che squadre contrapposte ci sono posizioni che vengono dai dati scientifici ed altre che vengono forse da ipotesi un po' campate per aria o comunque così da previsioni che poi purtroppo ai me si dimostrano puntualmente quelle che sono cioè fallaci con questo non ho nessun gusto proprio nessun gusto nel trovarmi ad avere come anche Ricciardi che è qui con noi oggi ad aver ragione insomma credo che tutti noi quelli che sono stati attenti ai dati e si sono espressi con le cautele legate ai dati e talvolta anche con qualche invettiva rispetto al fatto che determinati moniti non venivano ascoltati ecco io credo che tutti quanti noi saremmo stati molto lieti di avere avuto torto e francamente non non abbiamo gran voglia io perlomeno di continuare magari a mettere la faccia per primo su questioni che sarebbero magari anche di competenza altrui mi ci son trovato finché resisto forse lo faccio ma forse anche visto che non ho libri da promuovere non ho candidature politiche da fare non ho altri interessi specifici io ho insistito anche per rovinarle la domenica devo essere sincera uno potrebbe stare un pochino più tranquillo ecco brava così è sì sì così è che gliel'ho rovinata no professore non mi dica così non è contento di stare con noi un po' sì dai senta ma perché ma sì ma sì ma sì tanto l'Inter non gioca oggi professore che doveva fare no forse leggere studiare preparare senta mi dica una cosa ma devo arrivare a ricciarvi su questo tema però scusi mi dica una cosa ma lei veramente sessantottino come dice Zangrillo era molto di sinistra da ragazzino beh non lo nego io avevo 17 anni nel 1968 e come moltissimi della mia generazione abbiamo fatto parte di una realtà e di una cultura che non rinnego neanche per un pezzettino devo dire oltretutto essendone uscito senza come dire scorie pericolose di nessun genere pur avendo una chiara conoscenza del fatto che che il tempo passa la storia scorre le realtà si modificano ma questo non vuol dire guardi io sono figlia di due sessantottini ne vado fiera quindi non si preoccupi io sono sessantottino come lui ne vado fiera anche io scusi ma è ancora un uomo di sinistra Massimo Galli oggi? sempre stato in vita mia ok va bene per sapere allora professor Ricciardi che succede? perché avete tanto litigato fra medici? una cosa che a noi ci ha colpito perché in fondo insomma un po' sei sei tratti per la giacchetta questo me ne rendo conto perché poi la politica è saltata su alcune tesi però insomma a noi ci ha colpito questa cosa che dei medici hanno cominciato a dividersi in fazioni non è stato anche questo un elemento che ha dato ha tolto serenità e certezza agli italiani secondo lei? no perché gli scienziati che studiano e che parlano soltanto di cose di cui sanno sono assolutamente d'accordo io credo conosco il professor Galli da tanti anni e non sono mai stato in disaccordo con lui perché lui parla soltanto delle cose che sa che studia è un'autorità assoluta nel suo settore lo è stato ha presieduto la società italiana ha avuto tante responsabilità non gli ho mai sentito dire qualcosa al di fuori delle sue aree di competenza qualcosa che non avesse studiato e così con tutti gli altri sono alcuni diciamo outsider che per una serie di motivi parlano di cose di cui non sanno e sono purtroppo soprattutto clinici perché i clinici però questo dicono loro loro dicono noi siamo in trincea noi li vediamo ai malati ma i clinici e io diciamo sono un medico di sanità pubblica soggiacciono spesso a quello che noi chiamiamo il mostro del numeratore cioè rapportano l'esistenza globale a quello che loro vedono nei loro studi nei loro ambulatori vi faccio un esempio del più grande errore del mostro del numeratore quando all'inizio degli anni 80 i medici americani videro i primi pazienti di AIDS dissero e decisero che quella era una malattia soltanto dei neri e degli omosessuali cioè se noi avessimo sostanzialmente parametrato tutta la lotta all'AIDS e questo ci è costato perché grazie a quelle affermazioni sbagliate il mostro del numeratore non rapportare a tutta la popolazione noi abbiamo perso tempo contro l'AIDS allora chi parla della propria clinica della propria struttura e non si raccorda con colleghi è quello che abbiamo fatto sempre per tanti anni con il professor Galli quando lui parla di malati di malattie infettive si è sempre rivolto a me o ai colleghi che parlavano di popolazioni e insieme mettendo queste conoscenze si dà la verità scientifica del momento che può essere sempre confutata da ricerche di qualcuno ma quando uno parla e parla come una sibilla perché dice che sostanzialmente a quanto dice lui quella è la situazione reale e allora commetti un errore purtroppo le persone non capiscono in quel momento quel medico col camice bianco ha la stessa cultura epidemiologica di uno steward dell'Alitalia con tutto il rispetto dello steward dell'Alitalia mai chiederemmo informazioni a uno steward dell'Alitalia su quali sono le misure da prendere in una pandemia però a un medico gliele chiediamo perché pensiamo che quel camice bianco lo abiliti a parlare di medicina di sanità pubblica non è così l'epidemiologia è una scienza complessissima da studiare dopo sei anni di medicina quattro o cinque anni di specializzazione con dei master aggiuntivi ci vogliono dieci undici dodici anni per formare un epidemiologo se tu ti improvvisi perché hai visto un paziente o perché pensi che la tua realtà sia estrapolabile al mondo induci un errore e la gente che naturalmente vuole sentirsi dire che il virus è morto che vuole tornare alla normalità che non vede l'ora di togliersi le mascherine che vuole naturalmente riprendere le proprie perdi si aggrappa e fa degli errori clamorosi scusi professore ma in che condizioni siamo adesso perché oggi due regioni sono rosse Campania e Toscana come lei ben sai i governatori hanno avuto molto da ridire in maniera diversa ma persino Gianni che è un uomo molto mite ci ha detto sono rimasto molto male quasi che fosse uno stigma questo diventare rossi ma la cosa che mi ha colpito più di tutte le dico la verità a proposito la percezione io appunto non mi permetto non ho il camice bianco cerco di fare il mio mestiere onestamente però io ho la Campania e come dire la quirsi della tensione negli ospedali campani sono settimane che la racconto mi faceva così impressione che fosse ancora gialla all'improvviso in tre giorni mandiamo gli ispettori mandiamo in assa e la facciamo diventare rossa perché avete fatto così fatica a capire cosa stava succedendo in Campania che è successo con i dati io quello non ho capito forse lei ricorda che io era a tempo che dicevo che doveva esserci un lockdown dai primi di ottobre il problema è che noi ma questo non è soltanto perché sentivo prima che tutti lei Napoli zona rossa penso l'ha detto all'inizio di ottobre esatto così come Milano allora ma questo è un destino comune a tutti quanti perché io sono in contatto con il consigliere scientifico di Macron con quello di Boris Johnson con tutti quanti noi diciamo delle cose e cerchiamo di far capire che con questo virus che è rapidissimo e specializzato a diffondersi le decisioni vanno prese in tempi rapidi cioè non si può prendere una decisione dopo due tre settimane perché nel frattempo il virus ha caratterizzato quella che si chiama diffusione esponenziale cioè prima piano 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 poi da un certo momento in poi raddoppia triplica decuplica cioè a Milano da quando abbiamo cominciato a dare l'allarme è decuplicato il numero dei contagi quindi che cosa significa che per noi in particolar modo in Italia è difficile decidere rapidamente perché innanzitutto il ministro Speranza si rapporta con gli altri ministri col presidente del consiglio e poi con le regioni e tutto questo a furia di discussioni di distinguo di opinioni personali si concretizza in un ritardo enorme per cui noi oggi se avessimo preso delle misure due settimane fa tre settimane fa saremmo già probabilmente in un appiattimento della curva invece dobbiamo aspettare due settimane professor Galli con la sua consueta franchezza ho due domande da farle una riguarda il modello italiano ci siamo molto vantati per molto tempo del modello italiano e poi ci siamo resi conto che invece abbiamo fatto una serie di errori all'improvviso ci siamo ritrovati molto molto malmessi la prima domanda è cos'è che non ha funzionato la seconda è se lei ancora pensa che la verità è che bisogna arrivare ad un lockdown totale per tutto il paese è una cosa che lei mi ha detto parecchie volte in queste ultime settimane volevo capire oggi come la pensava su quello prego una piccola premessa sono molto d'accordo con quanto ha detto Ricciardi comunque gli infettivologi italiani che sono clinici nella loro stragrande maggioranza essendo clinici con necessario uso di epidemiologia e necessari studi anche in questo ambito pur da clinici non si sono mai confusi sulla realtà anche clinica di questo problema lo vorrei sottolineare e rivendicare anche perché le voci mia e di molti altri colleghi ancora più che la mia si sono alzate più volte per lamentare appunto la sua domanda le cose che non hanno funzionato ora facendo un altro esempio calcistico abbiamo molte volte sentito dire quanto bravi siamo stati noi italiani nel primo lockdown ed è verissimo ma il nostro grande timore era di ritrovarci come gli allenatori di una squadra di calcio che pur avendo giocato benissimo ha perso 3 a 0 ecco qui si perde 3 a 0 col virus sono guai ed è quello che stiamo rischiando adesso di fare voglio dire in tutto il periodo estivo ci sono responsabilità precise e articolate su quel che non è stato fatto e su quello che è stato permesso di fare tanto da avere una nuova diffusione in tutta la nazione ricordiamoci alla fine del lockdown noi stavamo messi in alcune parti d'Italia con un virus ormai praticamente assente questo è un fatto vero anche se c'era ancora parecchio virus nelle zone che erano state più colpite da lì in poi in realtà ci sono responsabilità sia in ritardi di interventi che dovevano essere presi in previsione della riapertura settembrina sia per quanto riguarda quello che è stato permesso di fare in giro per il paese la colpa non è solo degli italiani quindi non diamo colpa solo alla gente diciamolo questo molti si sono comportati in maniera sconsiderata scusi la fermo un attimo però gli è stato anche come dire permesso di farlo no perché appena arrivata questa notizia ci aprono tutti i siti l'istituto dei tumori di Milano dice il covid circolava in Italia già da settembre 2019 trovati anticorpi in un gruppo di screening per tumori al polmone è una notizia molto importante questa no? questa la lascio commentare al professor Galli professor Galli che ne pensa? però francamente per cortesia vediamo di avere poi delle conferme reali sulla caratteristica della natura di questi anticorpi perché è veramente difficile pensare anche sulla base degli studi filogenetici disponibili che il virus sia così vecchio nell'uomo se lo fosse la domanda è come mai non ha creato molto prima una serie di focolai epidemici visto che questo è un virus esplosivo quando arriva soprattutto se mette piedi in un ospedale questo virus fa decine di infezioni se non lo se non lo contieni se non lo gestisci quindi o comunque è qualche cosa di diverso e allora perché no dal mondo animale ci può arrivare qualsiasi cosa in qualsiasi momento ma che si parli di questo virus in termini di così forte anticipazione francamente la domanda uno se lo pone noi abbiamo testato i sieri dei di donatori e di pazienti che avevamo via da parecchio tempo come controllo e abbiamo trovato una positività del 3-4 del 2-3-4 per cento che va considerata quella che noi chiamiamo il dato che ti esprime la specificità di un test sierologico nel senso che reazioni crociate se ne possono avere a Iosa quindi scusatemi non ho letto il lavoro ma la ragione è lei aspettiamo a commentare io devo farvi ancora parecchie domande c'è un tema anche sulla mortalità che mi sta molto a cuore chiedervi però guardate è un momento bellissimo per me Claudio ci sei? guardate nel mio televisioncino ciao che bello vederti ti vorrei avere più vicino che bello ascoltarvi allora ecco Claudio Amendola è il secondo sai che ha detto ha detto ha detto Monti ti ha citato Monti ero già collegato eri già collegato ormai siete già una coppia tu e Monti Claudio è successo mai avrei immaginato mai avrei immaginato di essere citato dal professor Monti per una commedia romantica dialettale del 1984 ecco allora poi ti farò pure fare due chiacchiere con il professor Ricciardi perché devi sapere questo professore qui serissimo davanti a me ha fatto l'attore da ragazzino con Mario Merola ma noi ci siamo anche incrociati quando lui faceva uno dei primi romanzi sceneggiati credo al suo esordio ci siamo incrociati al centro di produzione RAI di Napoli quindi eravamo piccoli ma questo è un momento meraviglioso ma siamo una grande famiglia qua ma che bello allora però c'è un tema che voglio chiederti perché io prima ho detto che ormai per noi i virologi sono un po' come il segno zodiacale noi ce l'ho con Gerardo abbiamo scherzato tu che sei capo ascendente Zangrillo Ricciardi ascendente Bassetti perché l'ascendente è quello un po' più passerello di solito e tu che segno sei scusa Amendola ma guarda io sono Galli ascendente Galli ah proprio il tuo è scelto è il tuo guru no ma soprattutto per il metodo soprattutto no infatti guru no ma perché ne apprezzo moltissimo l'incapacità di sopprimere la come dire l'insoddisfazione no cioè lascia trasparire le emozioni e questo mi piace molto quando non sopporta più le vostre domande ce lo fa capire e io alzo il pugnetto e faccio bella Ruttù dai è professor Galli fa Amendola pubblicità torniamo subito c'è pure Amendola adesso rimanete con noi allora eccoci qua siamo tornati si è rimasto ancora un momento professor Ricciardi è rimasto professor Galli ma è arrivato il grande Claudio Amendola che ci ha detto con grande franchezza che lui è segno zodiacale Galli ascendente Galli perché gli piace moltissimo il professor Galli devo farvi una domanda prima di tornare però da Claudio il tasso di mortalità di questa malattia questa è un'altra di quelle cose di cui si discute molto ci sono molti che dicono siamo a un tasso di mortalità bassissimo il problema è solo la contagiosità sì però muoiono solo le persone molto anziane già molto malate poi invece io mi collego con degli ospedali mi venne raccontato tutt'altro qual è la verità cioè al di là che non bisogna sottovalutarlo perché abbiamo capito molto bene questo professore l'ho fatto mio che è il tasso di contagiosità che manda il tilt i sistemi sanitari e quindi che se noi sottovalutiamo quello poi la medicina va in tilt e quindi poi la gente muore anche di tante altre malattie però qual è la verità il tasso di mortalità di questa malattia qual è e in Italia come qualcuno dice si muore di più o di meno che in altri paesi allora piccolissima correzione tasso di letalità significa il numero di morti sul totale del numero dei malattie e questo è molto importante perché di per sé il tasso di letalità è piuttosto basso nel senso che rispetto per esempio ad ebola che ha un tasso di letalità quasi del 50% cioè muore il 50% dei pazienti qui stiamo probabilmente intorno all'1% è difficile dirlo perché non siamo perfettamente consci di quanti sono effettivamente malati nelle malattie infettive c'è sempre una sottostima cioè i casi notificati sono sempre di meno nella prima ondata era 1 a 6 cioè erano 6 volte di più i casi qua adesso probabilmente ma forse Massimo mi correggerà siamo 1 a 2 1 a 3 la letalità è bassa però se tu hai un denominatore alto cioè se tu hai miliardi di malati quella piccola quel piccolo tasso dell'1% su 7 miliardi che è il totale dei suscettibili cioè delle persone che si sono diventa una strage sono milioni e milioni di morti che non ci possiamo permettere tutti quelli che hanno ipotizzato di raggiungere la strategia dell'immunità di Greggia attraverso il lasciare libero il virus si condannavano e condannavano milioni di morti di persone alla morte allora Claudio Mendola è anche una bella occasione per te perché dato che io sono piena di dubbi ancora su questa malattia eppure onestamente me ne occupo dal primo giorno sarà qui tutti i giorni sostanzialmente a interrogare i medici tu hai delle cose da chiedere ai nostri professori sono delle cose che non hai capito hai qualche paura particolare no no mi pare di aver capito tutto e mi pare che credo che le uniche cose che noi dobbiamo sapere e tenere bene a mente sono le solite tre delle quali ci parlano ormai da quasi un anno perciò distanza mascherine igiene delle mani igiene in generale sarebbe meglio io non credo che loro possano dirci delle cose più i nostri comportamenti a parte appunto seguire queste tre che se le segui sono molto facili è un lockdown come dire abbastanza fai da te nel senso che se uno cerca di non frequentare le persone che non sono del tuo nucleo familiare che a parte i momenti in cui si lavora e quando si lavora si rispettano i protocolli nel massimo della serietà poi probabilmente c'è una piccola percentuale anche di casualità che va messa in conto scusa ma tu non volevi chiedere del Natale come tutti gli italiani che vogliono sapere cosa si può fare a Natale e cosa no? no io non lo voglio sapere io mi auguro che io ma questo è un pensiero mio io farei un lockdown generale dal 20 dicembre fino al 6 gennaio per dare una possibilità però è un'idea personale che va contro qualunque volere e perché lo faresti scusa Claudio? ma perché non vivo questa festa con particolare trasporto e perché penso che sia il momento di più bassa produttività un grinch praticamente odia il Natale Claudio Amendola? no non odio il Natale però penso che se il Natale diventi il nostro Ferragosto passato sarà un disastro perché poi c'è Carnevale e poi c'è Pasqua scusa Claudio ma questa cosa le è capita col senno di poi o già Ferragosto ti era chiaro? ti ha fatto paura quel Ferragosto lì quando vedevi le immagini delle persone assembrate cosa pensavi? mi ha fatto incazzare non mi ha fatto paura mi ha fatto molto incazzare perché la paura voglio dire bisogna conviverci e bisogna passarci sopra però i sentimenti invece di comunità che questo paese ha dimenticato dal 4 maggio in poi tutte quelle belle frasi ce la faremo e da l'esempio è quanto è cambiata l'opinione pubblica nei confronti dei medici e dei dottori e degli infermieri che oggi non sono più degli eroi ma sono delle persone che ci costringono a stare a casa per un falso mito perché quelle percentuali che avete fatto vedere prima sui negazionisti su chi non si vaccinerà ecco no sui vaccini invece c'ho una domanda da fare ai professori ma se quel 30% non si vaccina quando avremo il vaccino tutti a disposizione e diciamo l'altro 70% anche se è un numero mi sembra di aver capito non sufficiente per quanto riguarda l'opinione del professor Galli cioè a quel punto ma se uno il vaccino ce l'ha disponibile se lo continua a fare è salvo quindi quell'altro 30% cioè i negazionisti ci mettono in pericolo invece non cambiano le cose professor Galli vada che c'è qua a Mendole è il suo allievo prediletto mi pare di capire anche sul lockdown a Natale ho letto una vignetta qualche giorno fa che diceva in un modo un po' colorito uno che era ricoverato in ospedale diceva si dottore so di essere un negazionista però lei mi curi lo stesso e il dottore rispondeva certo certo che la che la curo lo metteci la parola che volete e lei mica io lo scemo lo scemo lo scemo e lei mica io capito era più colorito cominciava per esse ma non era lo scemo ma non come si diceva in televisione manca solo quello faccio le faccio le faccio un'altra battuta che riguarda un'esperienza diretta avuta nella ridente città di Rimini parlando di vaccini e avendo davanti anche dei Novax una signora che salto su dicendomi ma insomma io offro i miei figli per le sperimentazioni sono venuti su benissimo non hanno mai fatto nessun vaccino e non hanno mai preso niente e a quella signora ho risposto sì signora perché si sono vaccinati i figli degli altri ora per una malattia come questa non so se basterà semplicemente che la componente come dire responsabile degli italiani si vaccini in massa sempre che si riesca a vaccinarla per tempo il punto è che qui probabilmente i numeri potrebbero diventare abbastanza critici per toglierci di mezzo alla svelta il problema e quindi voglio dire ecco tutte queste riluttanze tutte queste esitazioni diventano qualche cosa di fortemente negativo fortemente arriverei a dire antisociale allora scusatemi devo fare una domanda a Claudio Amendola sul suo lavoro perché lui sta girando un film in questo momento e ah si eriti Enrico è arrivato a Mentana abbiamo fatto vedere che bello si eriti al cinema se siete distanti mi raccomando si vabbè una dai distanti è arrivato anche Enrico Mentana un altro ancora uno ancora uno Ricciardi lei cosa ha fatto con Mentana nella vita perché Ricciardi ha fatto cose nella vita con Monti con Amendola anche con Mentana vi siete incrociati spettatore con Amendola ha fatto l'attore non ho capito ha fatto l'attore ha fatto un provino insieme a Mendola ho preso a Mendola e non Ricciardi ma scensero te Claudio ma sono andati in ordine alfabetico ma io sono un noto raccomandato hai raccomandato a Mendola allora la posso Ricciardi allora quelle sedie dove sta saluto a Mentana assieme a Gerardo e a Vauro grazie Enrico tra l'altro perché Enrico l'ho fatto venire alla 7 pure domenica lui ci mi è per tutti i giorni quindi proprio è stato un gesto di grande almeno sapevo la strada affetto allora quelle sedie lì le abbiamo messi apposta Claudio perché siamo alle sedie del cinema perché la domenica è pomeriggio io sono andato al cinema per tutta la vita per tutta la vita per me non poter andare al cinema la domenica è un dolore enorme però questo è un dolore privato invece per chi fa cinema che cos'è questo periodo? guarda è un periodo di assoluta incertezza per quello che riguarda il cinema in sala poi invece per quanto riguarda la produzione televisiva che è così aiutata dalle piattaforme che ormai hanno foraggiato il mercato televisivo veramente in maniera importante c'è tantissimo lavoro però per quanto riguarda le sale c'è una forte incertezza si fanno io sto facendo un film cinema con la speranza di poterlo vedere in sala perché uno comunque stiamo lavorando in quell'ottica ma come si lavora su un set oggi c'è un racconti perché tu mi hai detto che è molto complicato beh insomma è molto complicato sia in termini di tempo che di costi e poi tutti i lavoratori devo dire si sono abituati molto a lavorare come anche dentro i vostri studi insomma con le mascherine con le attenzioni quello che un po' mette l'ansia è la mattina quando ci sono tutti i lavoratori giornalieri dalle comparse agli aggiunti alle location dove andiamo a lavorare che sono sottoposte a tampone tutti i giorni noi settimanalmente e molte persone risultano positive perché vengono a fare appunto la comparsa però c'è un protocollo che da quando arrivano stanno in fila indiana separati questo ci sta un po' mettendo un po' in crisi per quanto riguarda la lavorazione in termini di logistica di tempi di soldi per le produzioni però è un lavoro il nostro veramente di grande familiarità e vedo in tutti i lavoratori sia chi sta davanti e chi sta dietro la macchina da presa che c'è il terrore di infettarci e quindi di bloccare la produzione c'è una responsabilità di ognuno di noi che è molto sentita nel nostro mestiere diciamo sempre anche qui che la sfida è poter andare in onda quindi essere prudenti per poter continuare ad andare in onda Virginia Raggi è appena arrivata o mi è arrivata adesso il suo Instagram dice sono guarita dal Covid-19 dopo giorni di isolamento va bene tanti auguri a Virginia Raggi siamo molto felici di questo Claudio sui virologi ho capito che tu sei Galli tendenza Galli sei ma no dai io sono tendenza delle persone serie che non ci prendono per il culo adesso scusate la parola vabbè però io approfitterei del tema che ha introdotto Claudio non ho capito no approfitterei del tema che ha introdotto Claudio prego a proposito di prendere a proposito di culo diciamo ecco perché sono sei impazzito ma dove c'è scusato di prendere per il culo io mi sono fatto un'idea capito in tutte queste prese di culo appunto uno si deve fare un'idea sua no in qualche modo siccome si parla di colori io sono uno che disegna ho voluto fare lo stato dell'arte il colore che qui per fortuna è bianco e nero non è né giallo né rosso né arancione ma lo potete immaginare e lo stato dell'arte per me è quello ma non c'eravamo dentro fino al collo sì ma poi è arrivata la seconda ondata non si vedono le mascherine va bene va bene aspetta fammi salutare a Mentana che tanto non lo vedo si vede mai Mentana in televisione oggi esco dal mio tradizionale riservo Mentana è un grande atleta eccola qua vediamo se eccoci qui grandi atleti fermare la corsa del virus un po' come tentare di fermare le maratone di Mentana speriamo che non sia così insomma è apertorio allora scusate ma Claudio vuoi salutare anche tu Mentana? hai qualcosa da dire a Mentana caro Amendola? guarda io non me la rischio perché conoscendo bene il direttore come il più grande battutaro dell'Etere non rischio non alzo nessun tipo di palla però mi ricordo un suo Matrix dove veramente per i Cesaroni dove ci divertivamo tanto 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 erano bei tempi senza mascherina i Cesaroni è vero tu sei sei rimasto amatissimo per i Cesaroni dimmi una cosa ti volevo fare una domanda sulla politica scusami perché volevo capire invece la politica come ti era farsa tu sei uno che ama molto te lo dico sempre sei uno che ha una curiosità sulla politica segui ti piace come si è comportata questa seconda ondata al di là della vignetta di Vauro però insomma un po' la pensazione che ci ha travolti che la politica è anche rimasta un po' confusa l'abbiamo avuta o no? tu sai che non mi tiro indietro davanti a queste cose ma sono sono stato molto fortunato io gli ultimi due mesi ho preparato il film e ho iniziato a girare quindi non ho avuto tempo sinceramente e piano piano anche solo con i titoli mi sono reso conto che c'era che nel momento in cui nel momento del bisogno in cui ha navigato e naviga questo paese le dinamiche non sono cambiate prima ascoltavo Di Maio a parte che mi è sembrato ingrassato un po' e questo l'ho notato perché lui forse era il colletto slacciato però mi sembra che lo spettacolo non sia stato diverso di quello a cui siamo abituati poi le varie tifoserie da conquistare mi sembra che hanno fatto hanno dettato la linea un po' di tutti allora non sono un momento di non passione non passione questo è grave per un appassionato come Claudio Amendola allora io devo andare in pubblicità ringrazio molto il professor Ricciardi ci vediamo presto professore al suo posto adesso faccio accomodare Enrico Mentana ringrazio il professor Galli professore ci rivediamo presto spero non si arrabbi no no ma non mi arrabbio pubblicità sono un po' stanco di comparsate televisive questo sì va bene vediamo la domenica prossima Enrico che festa faccia si è stancato il professor Ricciardi allora devo andare in pubblicità torniamo subito con Enrico Mentana Claudio rimane ancora un momento con me poi lo vediamo anche a colori vediamo come si è vestito pubblicità rimanete con noi allora eccoci qua siamo rientrati in studio c'è Enrico Mentana seduto davanti a me lo ringrazio molto perché per noi questa è l'idea di una domenica in famiglia e questa grande famiglia della Sette tu sei il pezzo forte della famiglia quindi sono felice questa che famiglia questa che famiglia la famiglia Adams senti Claudio ti abbiamo messo a colori come sei carino chi fa Fester scusa scusa Claudio chi fa Fester nella famiglia Adams della Sette ci pensiamo me lo scelgo me lo scelgo io Fester lo faccio volentieri lo fa lo fa Claudio Fester si 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 è immolato perfetto ma io faccio la manina io la manina senti Amendola sei arrabbiata Francesca che ti abbiamo rovinato il pomeriggio della domenica no credo che sia molto felice di questo che io sto da una parte e lei dall'altra che ti tengo impegnato si va bene allora guarda ti sa quanto siamo amici senti sono molto contenta che tu sia lì se rimani ancora con noi sono felice tra l'altro dopo mettiamo anche Monti a colore se lo ribecchiamo voglio vedere il maglioncino di Monti però invece devo parlare con Enrico di un bel po' di cose prima cosa il tuo rapporto con i virologi perché Amendola ha detto che lui ha segno zodiacale galli ascendente tu che segno sei di virologia? no io li seguo tutti con interesse devo dire che di questi grandi esperti che abbiamo conosciuto per interposte trasmissioni televisive a catena l'unica che conoscevo già bene era Ilaria Capua anche per quella sua vicenda come no che Monti ricorda più di altri visto che l'aveva portata in Parlamento e conoscevo avevo conosciuto Pregliasco perché era sempre stato l'uomo delle influenze dei picchi influenzali ci si rivolgeva sempre a Pregliasco che era all'osservatorio su Milano e sapeva dire se arrivava l'influenza com'era i vaccini tutto adesso ovviamente pantografato ho avuto modo di conoscere l'estate scorsa la Viola Antonella Viola Antonella Viola Galli l'ho intervistato all'inizio proprio all'inizio fra l'altro su una ricerca del sacco da lui guidata che aveva retrodatato già a novembre la presenza del coronavirus in Italia appunto della reazione al vaccino lui ha detto che vuole essere cauto su questi dati su questa dell'istituto di tumori infatti ma anche perché appunto non con lì ma con l'evidenza che aveva trovato l'equipe di Galli allora in quella in quella ricerca poi ci siamo interfacciati un po' di volte anche per il comune passato milanese eccetera insomma ma parlano troppo a tuo parere i virologi in televisione come dire chiedere se gli attori recitano troppo non lo fanno spontaneamente io non penso che ci sia stato neanche da te nessuno che si sia proposto lui di venire assolutamente no abbiamo molto cercato siamo noi che invece di far parlare rabdomanti fattucchiere per fortuna ci rivolgiamo alla scienza poi magari il problema doveva essere all'inizio anche quello di programmazione uno diceva amici ministro o autorità sanitarie superiori istituto superiore di sanità comitato tecnico scientifico facciamo una bella cosa cerchiamo di affiatarci perché la cosa che è stata più sgradevole è stata a volte sentire ricette completamente diverse la cacofonia diciamo ecco quello spiazza perché se due politici la dicono diversa è un talk show cosa stai guardando è arrivata l'agenzia di Conte Conte sta parlando agli stati generali come tu ben sai non ha svelato la ricetta segreta della Coca-Cola bisogna avere il coraggio di cambiare le idee quando ti accorgi che queste sono migliori di quelli che avevamo e se la coerenza delle stesse idee fa male al paese si ha l'obbligo morale di cambiare bacio perugino una frase di un bacio perugino la può aver detto a chiunque ma l'hai visto prima di Maio come ti è parso? al di là dell'aspetto dietologico che aveva evidenziato amendo posto amendo insomma loro sono in una fase particolare voglio dire stiamo parlando di rivoluzionari che si trovano invece a fare gli andreottiani è chiaro che è ovvio che c'è sempre un sottofondo che ti sembra che stoni Di Maio è la governista impersonata proprio personificata è chiaro che i 5 Stelle adesso al di là di quello che dicono all'esterno sono alle prese con redderazione perché è evidente dall'esterno che dal punto di vista della coerenza con i valori su cui è nato il Movimento 5 Stelle ha ragione di Battista poi però nel momento in cui dici noi siamo al governo cosa dobbiamo fare? Non governare o governare secondo linee guida di dieci anni fa sapendo che la situazione è diversa o dobbiamo governare bene insomma cercando di trovare convergenze eccetera eccetera come dice Di Maio è chiaro che ci sono due verità due modi di essere il Movimento 5 Stelle in un mondo ideale si saluterebbero e direbbero vabbè noi facciamo il governo e tu fai l'opposizione scissione basta che interpellino i loro alleati del governo del PD che sono specialisti internazionali sono i galli e il preiasco delle scissioni quindi non lo faranno però per te invece no non lo so non lo so scusa mi dici una cosa cosa dovrebbe fare Conte a tuo parere cioè si dovrebbe prendere il Movimento 5 Stelle dovrebbe scendere il Movimento 5 Stelle non è così contendibile voglio dire un conto è dire grande grandissimo conto come dicono loro ovviamente insomma da un lato è giusto che siano il governo di 5 Stelle presero un terzo dei voti se c'è una forza politica che doveva essere al governo certo quello che è successo dopo ti fa pensare ma la linea di continuità è stata proprio quella figura che è dentro e fuori anche questa è un'ambiguità se vuoi dal Movimento cioè Conte che devono fare che deve fare Conte deve fare il Movimento con Conte sono fatti non avremmo mai previsto nulla delle cose nessuna delle cose che sono successe nessuno avrebbe neanche probabilmente i parenti di Di Maio e di Grillo avrebbero pensato che avrebbero preso il 34% all'elezione neanche il più acceso odiatore dei 5 Stelle poteva immaginare che si sarebbero dimezzati i voti un anno dopo quindi è inutile che noi consigliamo o prevediamo 5 Stelle sono per definizione siccome sfuggono alla logica delle forze politiche tradizionali imprevedibili senti veniamo un momento al racconto di questo virus perché tu le raccontavo tutti i santi giorni abbiamo fatto un minutino per ricordarci un po' cosa è stata questa cavalcata dentro il virus poi mi dirai qual è secondo te il momento che ti è rimasto più dentro proprio dal punto di vista di uno che fa informazione quotidiana vediamocelo un momento abbiamo due casi accertati di due turisti cinesi è successa una cosa molto molto grave il coronavirus è arrivato in Italia un 38enne di Codogno che preoccupa in maniera particolare ci sarà il vincolo di evitare ogni spostamento un patto con il paziente che non sapevo come difendere nel tempo un silenzio assordante un vuoto desolante dentro al cimitero di Bergamo ci raccontano la situazione è insostenibile questo piano che adesso vi illustro parte dal 4 maggio tutta Italia ha riaperto siamo tornati indietro praticamente di 5 mesi oltre 40.000 nuovi casi in sole 24 ore siamo ai massimi possibili di diffusione accertata questo è deceduto questo è l'ospedale Cantarello allora Enrico tu ne hai raccontata di cose nella tua vita da qualcuno è Borsellino alle torri gemelle alle dimissioni del Papa al Bataclan c'è stato un momento in cui raccontando questo hai detto siamo di fronte a una cosa mai vista prima per la generazione di chi non ha fatto la guerra ovviamente sì ci sono stati altri passaggi della vita professionale che hanno in comune con questo avevano in comune con questo un alto tasso di imprevedibilità anche il giornalista a un certo punto dice ma in che fin sono per esempio beh quando arrivarono vicino a Lampedusa i razzi di Gheddafi ti faccio un esempio mi tocco fare la straordinaria il TG1 stiamo parlando di tantissimi anni fa praticamente no metà degli anni 80 e dovevi dire questa cosa no ora quei razzi a quanto pare erano poco più che una forma di esibizione muscolare però tu ti chiedi che cosa può succedere l'altra volta l'11 settembre in onda già da ore arrivavano le notizie degli aerei uno per volta l'aereo sul pentagono e allora a quel punto pensa che ti guardai il TG5 ma ricordo benissimo che il pomeriggio infinito in cui continuavano a arrivare le notizie che uno non sapeva e a quel punto tu non sapevi chi erano quanti aerei erano stati dirottati che cosa poteva succedere ancora quando tu sei all'inizio faccio la presenza di Claudio quando sei all'inizio di un film d'azione tu non hai la minima idea ed è quello il motivo per cui lo vai a vedere di come si sviluppa solo che quando è l'angosciosa realtà di una guerra beh è una cosa terribile qui è una guerra contro un nemico che non si conosceva e che tuttora non conosciamo perché noi possiamo dire di essere ottimisti o pessimisti ma facciamo i conti in realtà con un fenomeno che è la pandemia con un agente patogeno che non conosciamo che potrebbe modificarsi peggiorare scomparire perché la spagnola cent'anni fa è sparita sparita sola se no e la seconda ondata fu peggiora la prima a proposito delle lezioni della storia che facciamo fatica a imparare qui noi ci siamo trovati in questo e a essere benevoli a dirla alla domenicale diciamo visto che siamo in questo salotto del giorno di festa possiamo dire per i giovani che è come un nuovo videogame tu sei su un livello arriva il mostro boom 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 magari perdi vite però lo sconfiggi poi arrivi al livello successivo e ti ricapita ancora quello stesso mostro che credevi di non avere più e allora tu non sai cosa succederà ancora devi soltanto avere la fiducia che è che è nell'animo umano che poi alla fine vinci grazie al vaccino grazie a tutto quello che abbiamo messo in campo il distanziamento eccetera hanno messo un'immagine su cui ti vorrei fare una domanda in realtà perché nella prima fase i medici eroi i balconi gli applausi gli infermieri portati in palmo di mano queste ultime due settimane mi è capitato spesso di intervistare medici e infermieri che mi hanno detto è cambiato sono intolleranti gli italiani sono arrabbiati ce l'hanno persino con noi perché siamo quelli che in qualche modo vi ricordano che questa cosa c'è e che non si può prescindere perché? perché ci succede in tutti i campi della vita se tu sai che ti fai un'operazioncina e ti scompare il male il dottore il chirurgo la figura medica è che ti ha sottoposto è l'uomo o la donna della tua via è una figura che il papà il marino è tutto contemporaneamente è la persona a cui ti aggrappi se poi dopo due mesi ti ritorna quel dolore quella affezione e devi tornare a quello ti dici beh adesso devi fare una cura più lunga allora prima allora non era così e in realtà noi siamo un po' tutti da questo punto di vista è come nella ruota del criceto perché noi crediamo di dominare la situazione ma poi noi vediamo che l'Italia noi che ci siamo tanto vantati di aver affrontato con rigore con forza in realtà abbiamo avuto nella prima fase più morti di tutti abbiamo fatto il lockdown più lungo di tutti adesso ci siamo trovati nella posizione opposta potevamo far tesoro di quello che stava succedendo agli altri e non abbiamo fatto tesoro così come tutti gli altri paesi stanno vivendo le ondate le seconde ondate o ondate di ritorno indipendentemente dal fatto che ci sia Bolsonaro piuttosto che che Pedro Sanchez cioè abbiamo tanto detto è quello il sistema con quelli la verità è che è come la pioggia capita a tutti allora penso che Gerardo ci abbia una seconda spiega proprio su questo proprio su cosa pensano gli italiani su cosa sentono gli italiani giusto Gerardo? si partiamo da qui partiamo da questa foto che nessuno si è dimenticato degli infermieri e dei medici di Quarto Giaro periferia milanese sono stati dipinti a luglio sui muri di quella zona di quel quartiere e sono stati deturpati una decina di giorni fa proprio a segnalare se volete la stanchezza stanchi di questa guerra abbiamo chiesto allora sempre con SVG però quali fossero i soggetti ai quali ci affidiamo in questa nostra stanchezza di guerra e ancora i medici sono all'85% i soggetti più affidabili dopo viene il sistema sanitario la regione il governo siamo stanchi e il punto di riferimento è ancora questo malgrado qualcosa è vero stia cambiando anche perché in questa stanchezza cominciamo a capire che il lockdown è inevitabile i soggetti più affidabili sono i medici e soprattutto il lockdown è dietro l'angolo dietro l'angolo il 50% degli italiani la metà di noi ritiene che andasse già fatto doveva essere già fatto il lockdown dovevamo già da oggi essere chiusi se volete c'è una curva che è importante questo pomeriggio la curva che indica la paura anzi le due paure la paura del virus eccola qui e la paura della crisi economica paura del covid contro la crisi economica e si vede bene nel senso che la paura del covid a marzo è altissima al 65% poi scende ecco l'estate ecco le discoteche eccetera che dice luglio bassissima ma poi risale quasi nello stesso modo in cui è salita a marzo questa è la curva del consenso sociale più è alta la paura del covid più è possibile il lockdown forse anche per questo che ci abbiamo messo così tanto tempo prima era una decisione politicamente molto difficile molto più complessa e quindi dopo tutto questo dopo non essere riusciti a mobilitare abbastanza i medici di base dopo aver tirato fuori 20 criteri anzi 21 che forse sono troppi dopo esserci fatti mancare i vaccini influenzali le lunghe file insomma l'abbiamo l'abbiamo visto nel breve filmato di prima insomma gli italiani non hanno più voglia di stare sul balcone Zaia il governatore del Veneto ha detto abbiamo smarrito quel senso di marzo anche perché abbiamo capito prossimo cartello sempre nel nostro sondaggio SVG che l'Italia post emergenza covid non andrà bene non è vero che andrà tutto bene male o molto male il 73% negli italiani bene o molto bene il 22% alle valutazioni insomma fatele voi sono abbastanza semplici c'è un'ultima domanda che abbiamo posto con SVG ed è la domanda che volete indispensabile oggi quella dell'amore ai tempi del covid l'amore non il sesso eh per il 67% delle persone in realtà non è cambiato molto per il 22% però soprattutto per i single in realtà è cambiato tanto è peggiorata la vita sentimentale allora forse varrebbe la pena chiudere visto che prima c'era Galli che ci parlava del 68 ecco in quella contestazione si diceva fate l'amore non fate la guerra noi qui invece stiamo facendo una guerra e non abbiamo tempo per l'amore grazie mamma mia no sentimentale come va l'amore per te Enrico bene beh per la professione per Francesca dicevo va bene voglio salutarla Francesca grazie che pure domenica te l'ho fatto uscire di casa allora scusami Enrico invece amica sono cane scusa ci sono le chiavi di casa mia sei dedicato penso un po' più alla famiglia la domenica hai fatto un post ho visto quel dato il 73% che dicono andrà male o molto male è un dato terribile in realtà tu su Instagram dato che sei una star dei social hai fatto un post molto duro l'altro giorno dicendo la prima ondata abbiamo avuto un sacco di morti poi dove abbiamo cominciato a fare discussioni i visti a posteriori sono disarmanti banchi a rotelle smart working pubblico e abbiamo dimenticato la seconda ondata poi il virus torna a colpirci e lì il sistema Italia da Palazzo Chigia ai comuni passando per le regioni si è improvvisamente scoperto impreparato indeciso diviso balbettante è un giudizio molto duro nei confronti complessivamente della tenuta del paese perché? perché è quello che penso ovviamente perché penso questo perché chiunque comprende facilmente immaginando l'arte del governo nazionale e locale che dire rischiamo di morire chiudiamo tutto sia contemporaneamente un comando una regola una misura popolare e condivisa assolutamente non divisiva nessuno può dire se non quattro sfessati che fanno i bastian contrari che ci sono in qualsiasi decisione della vita associativa e quella fu scambiata per essere una grande scelta una svolta nella vita del paese in realtà è quello che bisognava fare ha fatto bene Conte a farlo l'ha spiegata bene però è molto più facile dire chiudiamo tutto che dire riapriamo un po' scaliamo andiamo a scacchiera eccetera eccetera cioè un conto è l'azione estrema nelle guerre sempre i governi diventano popolarissimi Stalin era la madre Russia personificata Churchill era il leader del paese assoluto era quello a cui pendevano tutti nei radiodiscorsi nell'ascoltare quello che aveva detto alla Camera dei Comuni ma poi quando arriva il dopoguerra o il periodo di tregua e bisogna riorganizzare le trincee le retrovie l'industria bellica eccetera e si cominciano a fare delle scelte che sono divisive e allora è lì che comincia il problema noi ci siamo letteralmente dimenticati come sistema paese del fatto che tutti gli esperti davano per provabile che ci sarebbe stata una seconda ora la cosa più grave secondo me e la voglio dire qui e mi farò mandare al diavolo da molti telespettatori questa cosa delle discoteche noi abbiamo preteso per prima cosa che i giovani restassero a casa da marzo poi si dice le scuole uno pensa ai bambini noi abbiamo mandato gli universitari noi milioni di studenti maggiorenni quasi maggiorenni sono stati tenuti in casa in casa mesi in casa ed intorni poi addirittura quando è cominciato il primo periodo di schiarita alla movida i navigli delle fotografie in cui sembrava che ci fosse la gente accalcata quando poi ovviamente era la prospettiva le stesse persone che si inalberavano erano quelle che dicevano l'importante è mascherina e distanziamento sociale ora teoricamente con mascherina e distanziamento sociale si poteva fare tutto e allora perché cominciare subito a criminalizzare poi a posteriori dopo un'estate in cui tutti hanno fatto fesserie no ma fesserie io non so se sono state fesserie quello che io ti dico è che in tutta la storia di tutte le pandemie di tutte le epidemie succede che d'estate per il caldo per l'obiettivo distanziamento che c'è in realtà c'è una minore crescita dei casi o addirittura un drastico quando si ritorna quando si ritorna alla vita associativa in città a scuola andando a scuola non dentro la scuola perché poi ci sono le polemiche a ragione Lazzolina il problema non è dentro le scuole è avanti e indietro i familiari tutto quanto scuola lavoro appena tutto è successo sono ricominciati a crescere i casi e anche dall'estero è arrivato l'eco della seconda ondata diciamo ora noi passiamo per quelli che sono andati tutti in discoteca ma il 99% non è andato in discoteca ti giungo solo una cosa il professor Lopal con il frattempo come è noto a tutti diventato assessore alla regione Puglia fa notare giustamente che il Salento che è una delle terre della movida estiva e anche di una presenza forte è in questo momento nella Puglia che già non è una delle regioni più devastate come è noto il posto dove c'è meno dove ci sono meno meno diffusione di case e allora veramente dobbiamo mettere la pietra la croce addosso sulle discoteche e sui giovani i diffusori gli untori allora devo dirti che da mamma di tre ragazzini io penso tu hai perfettamente ragione abbiamo molto sottotato il sacrificio che hanno fatto prima e abbiamo cominciato a dire che erano loro quelli che sbagliavano quelli che sbagliavano sono coloro che dovevano decidere a livello regionale e a livello nazionale non è inutile che adesso quando vanno bene le cose è merito del governo regionale o del governo nazionale se no è colpa degli studenti universitari che dovevano stare chiusi in casa anche d'estate mi piace questo aumentare a difesa dei giorni mi piace molto grazie Enrico io ti ringrazio molto per essere stato con noi questa domenica spero che tornerai presto a trovarmi tanto siamo qui quando c'è voglia di un giovedì quando c'è voglia di passare sono sempre qua tanto grazie mille che faccio mi alzo vai vai tranquillamente ne vado proprio l'uscita è l'uscita più o meno la conosci puoi anche sederti con Gerardo e Vauro non c'è Ricciardi mi metto non vicino per carità allora ragazzi vi devo portarvi in una scuola invece io vi devo portare a trovare una persona allora dovete sapere una cosa che per un conduttore avere l'ospite studio è la cosa più bella che esista oggettivamente perché tu ce l'hai di fronte ho fatto commentare ci puoi chiacchierare e quindi questa persona che ora vi presento io le avevo molto chiesto di essere con me in studio e lei invece mi ha convinto che era molto meglio che lei rimanesse dov'è perché questo è il suo modo a proposito della nostra sigla di non sorrendere a proposito di resistere di non arrendersi è il suo modo di non arrendersi rimanere nella sua scuola ma dov'è la sua scuola? la sua scuola è Caivano forse su Caivano vi devo spiegare qualcosina perché non tutti sapete esattamente cos'è Caivano Caivano è un posto vicino Napoli un posto molto difficile eccolo qua di Caivano si conoscono quei grandi palazzoni fatti dopo il terremoto dei palazzoni di Parco Verde che di verde non hanno nemmeno più le facciate perché sono tutti scrostati di Caivano si sa che è la più grande spazio la più grande piazza di spaccio di droga di Europa si sa che è uno dei luoghi con la più alta dispersione scolastica in Italia ecco da quei palazzoni molto alti si sa che è stata buttata di sotto una bambina di sei anni che si chiamava Fortuna e che sarà buttata di sotto al suo cucino che era anche il compagno di sua madre che l'aveva abusata più volte e che di quella faccenda tutti gli adulti non vogliono parlare ci fu molta omertà si sa che c'è stata una ragazza che è stata uccisa dal fratello per un amore che lui considerava sbagliato insomma si sa che Caivano è un posto difficilissimo eppure c'è una strada a Caivano che separa il male dal bene e quella strada finisce in quel cancello azzurro il cancello dell'istituto Murano e quando si apre quel cancello e ce lo si chiude alle spalle per molti versi i ragazzi sono salvi trovano la salvezza e quella salvezza per loro ha un nome e un cognome si chiama Eugenia Carfora Eugenia buongiorno ben trovata noi siamo entrati nella tua bellissima scuola che è una scuola in cui si vede che tutto è curato che tutto è ben tenuto che c'è un grande amore dentro quella scuola e abbiamo vediamoli un pochino i corridoi mentre io parlo con Eugenia e siamo arrivati all'aula dove Eugenia mi ha detto io da qua non mi muovo questa è la verità Eugenia mi ha detto io dalla mia scuola dalle mie classi non mi muovo perché per me non arrendersi e resistere vuol dire rimanere nella mia scuola Eugenia che bello vederti fa molto piacere lo sai che ci tenevo molto a questo incontro con te perché ti considero una persona molto speciale ti considero davvero una resistente perché sei voluta restare lì nella tua scuola perché è così importante per te parlarmi da lì andare lì tenere la scuola aperta anche se in questo momento purtroppo è chiusa perché mai come questa volta devo dire che la scuola deve resistere e quindi è un simbolo far vedere i colori di un'aula la bellezza che c'è nella scuola la voglia di riabbracciare il prima possibile i ragazzi anche questo deve essere un messaggio senti Eugenia i ragazzi le famiglie hanno bisogno un pochino di serenità senti partiamo un po' dall'inizio perché vorrei che ti conoscessero i miei telespettatori io ormai ti conosco abbastanza bene abbiamo parlato tante volte tu ed io ma come arrivi tu a Caivano la scegli Caivano ti capita cioè quella realtà così difficile che ho descritto in maniera molto come dire così a poche pennellate per carità diremo a Napoli in maniera arronzata ma tu come ci arrivi in quel posto così complicato? io ci arrivo perché l'ho scelta questa quest'area io mi sono sempre occupata di storie un po' particolari io ho sempre pensato che la nostra intelligenza deve essere messa a disposizione degli altri venivo da un'esperienza molto forte di ricerca ma avevo bisogno di sporcarmi le mani mi raccontavano che questa realtà fosse molto difficile ma io invece ho sempre pensato che un luogo non è mai difficile se c'è la casa dello Stato grazie a Dio ci sono Caivano è una bella cittadina accoglie il quartiere di Parco Verde e c'è quella linea invisibile che divide il male dal bene e io di questo non sono stata mai convinta perché anche nel quartiere di Parco Verde ci sono delle case bellissime e c'era la casa dello Stato Italiano una scuola quale occasione migliore per me ricominciare dalla casa dello Stato scusa mi dice una cosa Eugenia quella scuola ma quando arrivai come l'hai trovata bravo quando arrivasti perché tu mi hai detto che c'erano i banchi ammassati e gli sgambuzzini bisognava pulire tutto addirittura se mi ricordo bene hai mai detto che c'erano le armi sotterrate nel cortile a dire la verità ho trovato un poco di disordine guarda là si vede e sai la cosa bella è che mi ha ispirato è la bellezza del luogo i bambini che correvano nei viali ma anche il silenzio che ti mandava un segnale non normale e io dissi in un luogo come questo secondo me l'ordine la gioia di rivedere i ragazzi a scuola senza dare alcuna scusami la stiamo vedendo sta scuola sembra una scuola dopo la guerra è incredibile le immagini di questa scuola che adesso ti posso garantire che è bellissima semplicemente un po' io ti posso solo dire che è stata sempre bella e a volte e a volte sono gli uomini con un poco di disattenzione dicono domani pulirò invece la scuola deve essere il luogo impeccabile il luogo della regola il luogo della dell'opportunità e allora quale occasione migliore per me e dire a tutti che poteva essere il luogo dell'eccellenza senti Eugenia come si fa a conciliare l'educazione al bello tu mi parli sempre con tutti gli altri messaggi e mi chiedo sempre tu sei fortissima hai un rapporto forte con i ragazzi gli dici delle cose però poi fuori da quella scuola sono opposti i messaggi quelli del quartiere quelli della famiglia cioè come fai tu a far passare un messaggio in un luogo in cui tutto il resto parla d'altro la gioia più bella è quando arrivano i professori per caso perché qui c'è la danza delle apparizioni i primi giorni sono tutti disorientati dicono io sono arrivata qua perché non avevo dove andare poi passano i giorni hanno la gioia di guardare negli occhi dei ragazzi e poi mi raccontano quanto sono bravi questi ragazzi sai Mirta i luoghi difficili vanno respirati vanno vissuti non posso nascondere che non ci siano qui problemi ma posso dire al mondo che la loro intelligenza la devono mettere a disposizione di questi luoghi dobbiamo avere il coraggio di arrivare qui sceglierli non dobbiamo venire qua perché ci manca il lavoro scusa Eugenia e poi scappare Eugenia qui c'è un'energia pura ti posso chiedere una cosa perché tu giustamente mi parli dell'energia quella dei tuoi ragazzi però mi hai pure detto ci sono dei giorni in cui ho visto il buio cosa era quel buio me lo spieghi per favore il buio ha tante facce il silenzio cosa vuole questa donna a pochi giorni mette sempre sulla musica vincerò a me piace tantissimo nessun dorma e quando io ebbi il dolore di vedere dissipato il mio lavoro per la scuola del primo ciclo tutti quanti rimisero quella canzone per farmi capire che avevano vinto l'oro beh io quel momento ho visto il buio ho sentito una distanza infinita tra lo Stato e il bisogno di questa gente ho visto degli striscioni a morte la preside però ho visto anche viva la preside Eugenia però ho visto tante mamme che mi dicevano ti voglio mandare mio figlio salva lui io non ce l'ho fatta e questa è la forza del Parco Verde di Caivano Eugenia non ci dobbiamo scoraggiare dobbiamo andare avanti dimmi un'ultima cosa importante Eugenia perché tu pensi che la tua scuola dovrebbe essere aperta e tu hai così paura della scuola chiusa Io dico che tutte le scuole devono essere aperte cara Mirta la mia un po' di più qui bisogna correre di più il ragazzo qui ha mille tentazioni quando cammina prima di arrivare al cancello mio deve far finta di niente si deve concentrare deve stringere i pugni poi arriva si rilassa sorride e intravede una speranza poi deve riuscire dal cancello si deve richiudere deve salire quelle scale deve dormire e deve resistere per il giorno dopo cara Mirta quando i ragazzi ti scrivono a scuola mi sentivo protetto io non devo essere qua un'ora io devo esserci tutto il giorno e quando le luci della scuola la sera si spengono ci deve essere qualcun altro ad illuminare questo villaggio perché qui è un villaggio meraviglioso allora Eugenia qualcuno dovrebbe ascoltare di più esatto ascoltare io ti ringrazio molto ci teniamo moltissimo una testimonianza penso che sia un pezzo di storia di paese un'esigenza forte che non dobbiamo dimenticare perché spesso parliamo della scuola chiusa in tanti modi ci lamentiamo noi genitori il wifi che funziona poco la distanza la didattica a distanza che non dà dei stessi risultati beh qua è un'altra cosa qua è la differenza tra vivere e morire mi verrebbe da dire grazie Eugenia grazie del fatto che non ti arrendi mai io mi avvicino ai miei amici che mi succede guardatevi il suo foglio mi metto tra Gerardo e Vauro con cui ho passato questo magnifico pomeriggio mi sono veramente divertita ci siamo allungati un po' troppo ma non fa niente avevamo detto che era un work in progress quindi adesso io mi devo godere devo fare Michele Santoro adesso che meraviglia questo è il mio momento Santoro eccolo qua la citiamo mi godo vogliamo citare il momento Santoro sono io sono io io che faccio il Santoro con Vauro l'abbiamo fatta vedere nel promo va bene parti con il tuo bel racconto il racconto è questo una cosa fra tanto casino è chiara che questo virus non ha nessuna intenzione di sloggiare molto presto quindi dobbiamo ce lo ripetono anche spesso abituarci a convivere con il virus ma è una bella convivenza infatti ecco qui dobbiamo abituarci a convivere con il virus e io che mi lamentavo per mia suocera mi sembrava già dura così ma poi il virus arriva è un bel rompe coglioni lo posso dire e si presenta la tale convivere con il virus ha intenzione di fermarti molto? tu casa es mi casa amico e come vedi si è portato un po' di valigie e lì comincia il dramma della convivenza ma mi hai svuotato il frigo che ti frega tanto tu i sapori manco li senti quanto è cattivo il virus è un carognone lo vedo l'hai fatta fuori dal vaso che ti frega tanto tu gli odori non li senti lui è invadente diciamo la verità e si piazza pure sulla poltrona eccolo qua c'è De Luca in tv ridammi subito il telecomando col cacchio mi fa troppo ridere vami a prendere una birra e non contento della televisione pure il telefonino frega ecco pure il telefonino mai fregato non rompere sto giocando ai muni e beh giusto lui ci gioca perché diciamo che a tutti ieri non ci ha funzionato granché lui ci diverte moltissimo invece e infatti anche la sera poi c'ha altri divertimenti eccolo qua ma che ci fai sul mio letto chiudi la porta guardone che mi sto a riprodurre Gesù i virusini e la sera poi guarda ti sembra questa l'ora di tornare niente coprifuoco per me bellezza invidiosetto ma ci sarà il momento del riscatto eccolo qui hanno trovato il vaccino mamma mia che paura mi tremano le ventose il virus è carognone eccolo qui che lo fa guarda guarda che fa è inutile che ti fingi morto mica mi chiamo Zangrillo io non ci cadiamo beh meraviglioso grazie bravo grazie a voi ti posso rubare mezzo minuto mezzo minuto eccolo fammi vedere il maglioncino un bell'azzurro è quello di Washington professore sta benissimo a colori devo dire è il maglioncino di Washington vuol sapere Gerardo ah no no sono passati diversi anni no non credo che sia quello di Washington no però va bene mi dice mi dice una cosa professore sì che cosa ha pensato su questa storia di Napoli della scuola di Caivano di quanto è importante la scuola aperta detta da una donna che ci ha dedicato la vita a quella storia ma guardi quello che ha detto quella preside ci sono veramente dei messaggi fortissimi primo l'importanza che ha l'individuo quell'individuo quella signora fa un'enorme differenza secondo all'estremo opposto della società l'importanza che ha lo Stato e lo Stato pur quando fa difetto quando manca io credo che abbia tante ragioni di insoddisfazione verso lo Stato quella preside però è visto da lei come il punto della fiducia e e questo della fiducia mi ha anche molto molto impressionato insomma non non si lascia sconfiggere veramente resistente e e pensavo anche come nella società italiana non dedichiamo abbastanza rispetto e attenzione a questa categoria di cui lei è sicuramente una personalità straordinaria però quelli che formano i nostri figli c'è un paese in Europa che è quello che ha il sistema educativo migliore che è la Finlandia e i sondaggi d'opinione mostrano che presso i cittadini finlandesi la categoria sociale più professionale più rispettata è quella degli insegnanti elementari allora grazie professor Monti domenica prossima l'aspetto non mi faccia scherzi ci tengo moltissimo lei e vendola siete meravigliosi devo dire che anche i miei compagni di strada non sono male guardalo lì non ti fa sfigurare lui no mi fa sfigurare per niente hai portato la vodka è nascosta la vodka la bevi dopo? me la bevo tutta dopo va bene Gerry grazie hai fatto un sacco di cose interessanti posso rubare un minuto tanto so quanto condividi questo appello quel numero lì è Sole Terre Sole Terre 45520 un SMS per questa organizzazione che si occupa dei bambini malati di tumore ma non solo in questo periodo sta lavorando anche come a dare supporto psicologico a medici e infermieri allora questa cosa fatela perché ne vale la pena Varo ci impende personalmente vi posso dire che è una cosa bellissima grazie Gerardo Vareco grazie Varo ora ci mettiamo noi siamo saluti già al cinema ora ci godiamo Whatsapp e poi un grandissimo film di Ettore Scola un vero e proprio capolavoro riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa noi ce lo guardiamo da qui non ci muoviamo più ormai ci piace troppo questo studio grazie a tutti voi ci vediamo in settimana grazie a tutti i nostri eroi